Allora, sorreggiamente, intanto un saluto ai nostri amici. Oggi mi trovo a Milano per intervistare Nando Ioppolo. Nando Ioppolo è un avvocato, economista, presidente di un centro studi chiamato Circolo degli Scipioni. Con Nando Ioppolo parleremo di un argomento importantissimo, importantissimo e vedrete quante cose si riusciranno a capire di questa nostra realtà. Ciò di cui parleremo è il pensiero unico in economia. Capiremo quanto questo pensiero unico influenza la nostra vita, influenza le nostre vite totalmente, spesso in maniera inconsapevole. Quindi vi auguro una buona visione di questo video e ricordate, non esistono i poveri e i ricchi, ma esistono i poveri affinché esistano i ricchi. Grazie e buona sovranità a tutti. Il pensiero unico in economia è una locuzione che è stata coniata da Ignacio Ramonet, che era allora nel 1995 il direttore di Le Monde Diplomatique. Lui sostanzialmente diceva che al di là di tutte le critiche che vengono portate al pensiero liberista, di fatto c'è un converso, esiste un massimo comune denominatore tra tutti gli economisti occidentali, per cui si può dire che questo comune denominatore lo possiamo chiamare pensiero unico in economia. Quindi è quello che in comune hanno tutti gli studiosi che in tutte le università dell'Occidente capitalistico esprimono le loro opinioni stando all'interno del modello liberista. Quindi il modello liberista sostanzialmente viene definito il pensiero unico in economia e così viene anche usato spesso in parecchi quotidiani, nella stampa anche a tecnica viene usato questo termine, sebbene qualcuno lo critica. Quindi sarebbe il modello liberista, quello che sta dietro l'agenda Monti per intenderci. Quindi lei diceva che il fattore comune è questo liberismo, questo pensiero liberista. Il pensiero liberista, ma in cosa consiste il pensiero liberista? Il pensiero liberista consiste in un blocco assiomatico, quindi consiste praticamente in un insieme di proposizioni, di fatti e relazioni tra fatti economici, quindi si tratta, è una ricostruzione del funzionamento del capitalismo in modo intelligente, come funziona il capitalismo, come funzionano le banche, come funzionano gli investimenti, l'import-export, il cambio alla moneta, tutte queste cose, gli insaggi di interesse, i salari e via discorrendo. Quindi è nient'altro che lo studio dell'economia, lo studio del funzionamento del sistema economico capitalistico. Questo è. Che si basa, se lei diceva assiomatico vuol dire che si basa su assiomi, sono verità date date per tali, ma che in realtà potrebbero non essere delle verità. No, non potrebbero, non sono tali. Mi spiega questo concetto. Allora, io le dico il dato una frase, una frase che è uno scoop giornalistico che è stato preso al volo il 10 agosto del 1941 sul Potomac, mentre siamo quattro mesi prima di Pearl Harbor, abbiamo il premier potenziale inglese che era Sir Halifax e Franklin Dallano Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti, stanno decidendo con l'America ancora neutrale l'assetto economico, monetario, finanziario da dare al pianeta Terra una volta sconfitto Hitler. Voi sapete che in quel momento teoricamente non si poteva discutere questo, visto che l'America era neutrale, ma sappiamo che poi quattro mesi dopo, il 7 dicembre al 1941, si tolgono il difetto agli americani per Pearl Harbor e quindi dichiarano guerra al Giappone, ma anche alla Germania e poi comincia il declino tedesco. Questa frase è terrificante. dice così, io sono giunto alla conclusione, chi parla è Franklin Dallano Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti, io sono giunto alla conclusione che tutto ciò che è di economia mi è stato insegnato alla università dagli esperti della materia, si è rivelato totalmente falso. Ora, totalmente falso non è discutibile con qualche errore, qualche imprecisione, totalmente falso vuol dire totalmente falso. Cosa vuol dire? Vuol dire che il modello liberista in sostanza prende in esame una serie di fatti che sono falsi, sono visti, letti male in maniera scorretta, sono collegati in maniera scorretta e non c'è una sola di queste relazioni significative che stia in piedi. Cioè praticamente è un sistema teorico, come una religione rivelata diciamo, è un sistema teorico dove ogni proposizione rimanda la sua spiegazione ad un'altra, che rimanda ad un'altra, che rimanda ad un'altra, che rimanda ad un'altra e così via. E ognuna di esse è infondata, ma nel rimando reciproco danno l'illusione di stare tutte in piedi. I latini dicevano, per esprimere questo concetto, simul stabund simul cadente, cioè o cadono tutte insieme, che uno rifiuta in blocco tutto, oppure stanno tutte insieme, perché la critica diventa settoriale, la critica riguarda la singola proposizione, l'altra singola proposizione, ma non la critica del sistema nel suo complesso. Ed è difficile per una persona accettare che non rimanga in piedi neanche uno. Il problema è che quello che rimane in piedi sono proposizioni di dettaglio poco significative, ma tutte le cose fondamentali, che posso dire, determinando dell'investimento, cambio, inflazione, moneta, piuttosto che import e export, cosa resta in piedi? Tutte queste visioni del pensiero liberista sono tutte quante infondate e su questo purtroppo si costruiscono le ricette che ci stanno massacrando da ormai 30 anni a questa parte. Quindi il pensiero unico in economia è una specie di recinto, tu ti puoi muovere all'interno di questo recinto, ma non esci in sostanza. No, se lo accetti. Come il sistema tolemaico? Puoi farci qualche esempio di questo pensiero unico o di questo sistema liberistico? Sicuramente. Facciamo un'ipotesi, ad esempio. Le politiche della offerta. Noi sappiamo che si discute molto sull'occupazione dei giovani. Molto bene. Allora, immaginiamo una classica affermazione del pensiero liberista. Noi precarizziamo tutto il sistema, quindi diamo l'assoluta libertà di licenziamento e di assunzione senza la minima giustificazione. Cosa accade? Accade quello che vediamo tutti e cioè che le imprese tendono a licenziare magari un ingegnere di 50 anni e assumere a metà prezzo l'ingegnere figlio suo di 25. Cosa abbiamo concluso? Abbiamo un ingegnere in meno da una parte, un ingegnere in più nell'altro. Se noi non guardiamo quello licenziato e guardiamo solo quello assunto, diciamo che questa cosa serve all'assunzione dei giovani. Ma qual è il beneficio di avere un giovane a stipendio dimezzato anziché un padre a stipendio doppio? Che il monte salario è inferiore ed essendo il monte salario inferiore sarà inferiore alla domanda aggregata sul sistema. Quindi le imprese dovranno produrre di meno, quindi dovranno assumere meno persone, fare meno investimenti e si creano effetti moltiplicatori recessivi. Quindi questa grande furbata di pensare di agevolare l'assunzione di giovani, per esempio, comporta il licenziamento dei vecchi. Se agevoliamo l'assunzione di donne, disincentiviamo l'assunzione degli uomini. Se incendiamo il sud, disincentiviamo il nord e così via. Quindi l'abilità consiste nel farti vedere un dettaglio e non insieme. Esatto, cioè nel farti vedere gli effetti ulteriori. E' un gioco di prestigio insomma. Sì, poi sì. Ma il resto però la cosa principale che dovrebbe la gente fare è soprattutto affrontare tutti gli argomenti economici con il buon senso. Perché io credo che un uomo che voglia veramente meritarsi il termine uomo, non possa provare un senso di deferenza rispetto a un'affermazione che non resiste al buon senso. Se io dico che gli incendi si spengono con la benzina, io credo che l'interlocutore dovrebbe avere forti perplessità. E' il guaio che non dicono che... E invece sì. Non lo dicono chiaramente. E invece sì, non lo dicono chiaramente. Facciamo un esempio. I sacrifici mondiani. Si stanno massacrando quei sacrifici, no? Perfettamente. Allora questi sacrifici ufficialmente vengono fatti, questa è la versione dichiarata, ufficialmente vengono fatti per recuperare credibilità nei mercati. Altra frase poco chiara. E questa credibilità si dice ancora, per chi ci vuole interessarsi per capire meglio qualcosa. Cosa legge? Legge che in sostanza si vorrebbe migliorare il rapporto tra il debito e il PIL. Allora i sacrifici servirebbero a questo, perché se in certo punto rimborsiamo il debito, rimborsando questo debito migliora il nostro rapporto debito-PIL, quindi i mercati fanno più fiducia verso l'azienda Italia. A orecchio la cosa sembra anche buona, ma non è buona per niente, perché in concreto che cosa succede? Che io per rimborsare 100 di debito pubblico devo tagliare 100 alla spesa pubblica, ma se io taglio 100 alla spesa pubblica vuole dire che la domanda pubblica diminuisce di 100, se la domanda pubblica diminuisce di 100, la offerta delle imprese che soddisfacevano questo 100 viene meno, quindi cosa ci abbiamo? avremo meno 100 di offerta, ovvero meno occupazione, meno investimenti e meno PIL, cioè meno PIL di 100, poiché circa il 50% del PIL se ne va in tasse, che succede? Succede che questo meno 100 di PIL comporta meno 50 di entrate tributarie e allora Giuffa che cosa ha concluso? Che per rimborsare 100 di debito pubblico ha aumentato di 50 il fabbisogno tributario, quindi in realtà non riescerà a rimborsare 100, dovrà rimborsare solo 50, 100 però ha 50 in meno, quindi cosa vuol dire? Per rimborsare 50 che cosa sta facendo? Meno 100 di PIL, allora chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l'arizmetica sa che il rapporto debito PIL, se il debito cala di 50 e il PIL cala di 100, peggiore il rapporto debito PIL. Se lei mi dicesse che per poter essere promosso devo darle 1000 Euro e poi mi dicesse che per guidare bene l'automobile dovrei darle 1000 Euro e poi mi dicesse che per essere sicuro che non mi verrà la gotta devo darle 1000 Euro e poi così via, io gli dico mi scusi ma come mai ogni cosa finisce che le vuole 1000 Euro? La verità qual è? Che le vuole 1000 Euro, ma è che in realtà nessuna di queste cose è vera, nessuna, mi spiego meglio. Non penso di aver già capito ma vai davanti perché è molto interessante la faccenda. La teoria che gli incendi si spengono con la benzina è una teoria che non supera l'esame del buonsenso, però io posso dire se dopo le ho impappocchiato che gli incendi invece si estinguono proprio con la benzina irrorando di benzina le fiamme, di fronte all'impazzare, al divampare delle fiamme io le potrei anche dire ecco vede, non è sufficiente, abbiamo messo troppo poca benzina, devo mettere più benzina. E lei come fa a smontare una simile affermazione? L'affermazione è deodicea, è autoreferenziale, è autoreferenziale. Il problema è che gli incendi non si spengono affatto con la benzina e questo è il motivo per cui quando butti la benzina sulle fiamme l'incendio impazza di più. Non è concreto? Come si può mai estinguere un incendio che è fatto di disoccupazione e recessione facendo recessione? Non ha senso compiuto. Quindi la funzione di questo tipo di politica o di questa economia qual è? Alla fine ce l'avrà una funzione vera, al di là di quella apparente, perché mi pare di capire che c'è una funzione apparente e una funzione reale. Quella apparente l'abbiamo detto, io ti dico che gli incendi si spengono con la benzina. Bene, ti ho detto una sciocchezza, ma il vero scopo per il quale dico questa sciocchezza qual è? Va bene, facciamola così, usciamo fuori di metafora e diciamo concretamente le cose. Qual è la ricetta liberista contro l'inflazione? La ricetta liberista contro quella del pensiero unico è togliere soldi ai poveri e dalle ricche. Qual è la ricetta per controllare le importazioni? La stessa, togliere soldi ai poveri e dalle ricche. Qual è la ricetta per pompare la borsa? Togliere soldi ai poveri e dalle ricche. Qual è la ricetta per far aumentare gli investimenti, l'occupazione e il reddito? Togliere soldi ai poveri e dalle ricche. Scusa, io non ho capito. No, lei ha capito bene. Cioè mi stia dicendo che il pensiero unico, questo pensiero unico, finisce sempre lì, finisce sempre lì. Sempre lì. Cioè tutte le cure hanno sempre... Questo è il risultato finale. Sono sempre uguali. Cioè sembrerebbe. Togliere i poveri e... Esattamente. Adesso poveri e ricchi sono chiaramente delle espressioni molto semplificate per il pubblico. Il problema è questo qua che in sostanza è un problema. Prendiamo il risorso delle tasse, per esempio. Allora, uno potrebbe dire perché non facciamo una patrimoniale? No? Se facciamo una patrimoniale, l'obiezione liberista qual è? No, la patrimoniale non va bene, perché la patrimoniale spaventa i detentori di cespiti che tenderanno quindi a defluire dall'Italia. Quindi i capitali andranno all'estero. Se i capitali andranno all'estero, dobbiamo immaginare pure che ci saranno anche una speculazione che colpirà la nostra borsa. Quindi l'indice di borsa tendenzialmente calerà, non solo, ma questo comporterà anche, questo esodo di capitali provocherà anche reazioni negative sul cambio della moneta. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Tassiamo i ricchi e stiamo facendo diminuire i risparmi. Stiamo facendo calare l'indice di borsa, stiamo facendo calare il cambio, no? E poi calando i risparmi l'ulteriore cosa che accadrà sarà che caleranno gli investimenti e calerà anche l'occupazione e calerà anche il reddito. Capito? Cosa vuol dire? In base a questa concatenazione pseudologica, io ho detto una serie di fesserie, una presso l'altra, però l'ho detta in tempo reale proprio per far capire come funziona il meccanismo. Quindi l'apparenza logica è data dal fatto che suona bene quello che io ho appena detto, ma quello che io ho detto appena è falso. L'ho detto appunto in tempo reale per capire come viene aggirata la difesa della mente, perché in tempo reale uno è come, non so, giocare a carte con il Maco Silvan. No, ci vuole la muoviola, bisogna bloccare tutto, andare a controllare gli ultimi movimenti, ma in tempo reale il prestigiatore la vince di sicuro. Allora, vediamo un po' invece come stanno le cose davvero. Allora, primo discorso, i risparmi sono molto di più degli investimenti produttivi, statistiche alla mano, prendendosi i dati Istat, si constata, per esempio, dati 2009 ad esempio, si vede che gli investimenti produttivi sono circa 80 miliardi, mentre i risparmi sono circa 350 miliardi. Quindi, se noi vogliamo dire che i risparmi servono per gli investimenti produttivi, stiamo dicendo una falsità. Gli investimenti produttivi si fanno al 50% con capitale proprio e poi si fanno con soldi prestati, ma il problema è che al di là dei soldi prestati dal sistema bancario. Esatto, ma i soldi prestati non sono soltanto i 350 miliardi, sono anche tutti i miliardi che vengono creati dal sistema creditizio e finanziario sulla base, su questa base. Quella vi chiedo di rallentare, perché anche qua, se no… Il sistema creditizio crea una mole di moneta bancaria che è un multiplo rispetto ai risparmi. in sostanza i risparmi sono soltanto una piccola parte del capitale della moneta bancaria, la moneta bancaria è enormemente di più, hanno provato a calcolarla, ma è quasi impossibile riuscirci. Ci sono delle proiezioni, diversi autori dicono… Perché non ha controllo? No, non solo… sì, o meglio, il controllo è teorico, il controllo ci sarebbe… Il controllo pratico ovviamente. Il controllo pratico è tutto da dimostrare, i recenti fatti dell'MPS credo che dovrebbero fare venire il dubbio sull'efficacia dei controlli, sulla effettività dei controlli. Il problema è un po' complicato, riguarda il cosiddetto moltiplicatore bancario, sistema della riserva frazionaria. Ma proviamo comunque un po' a spiegarlo. Sì, alla certa di questo praticamente. È una parentesi un problema, prima lo dico in termini affrettati, poi casomai la spieghiamo in maniera più articolata. La faccenda è questa qui in sostanza. Quando una banca presta dei soldi, non presta il denaro dei correntisti, bensì presta un input elettronico, presta una moneta elettronica che ha valore fiduciario, che è creduta. Nel senso che alla banca si consente di prestare soldi che non ha, purché il rapporto tra i soldi che presta e i soldi che ha sia un rapporto prudenziale, prefissato. Che adesso è esattamente? Ecco. Che percentuale? Ora lo vediamo, perché prima di capire questo dobbiamo capire cosa significa questo. Chiunque si va a leggere un qualunque manuale di macroeconomia e cerca di leggersi il moltiplicatore dei depositi, il moltiplicatore bancario, il moltiplicatore dei depositi, avrà la bella sorpresa di leggere delle frasi particolarmente ambigue, che significano esattamente due cose senza che sia possibile escluderne una rispetto all'altra. Mi spiego meglio. Leggeranno frasi del tipo che appunto la moneta bancaria deve essere un certo rapporto percentuale, prudenziale rispetto ai depositi. Allora, se io dico che la percentuale mettiamo è del 2%, il lettore cosa si aspetta che questo significhi? Si aspetta che questo significhi che su 100 di depositi la banca potrà prestare 98 perché 2 lo deve tenere in riserva. Errore. Non è questo che significa la frase. La frase significa qual è quell'X il cui 2% fa i soldi che la banca ha? Equazione di primo grado a un'incognita. Mi spiego meglio. Il rapporto deve essere tra la moneta che io presto e quella che io ho. Se io ho, per esempio, un milione di Euro, qual è quell'X il cui 2% fa uno? 50, 50 miliardi. Ho detto milioni, 50 milioni. Il 2% di 50 milioni fa un milione. Un milione io ce l'ho e quindi questo lo posso fare. Invece cosa avevo pensato io? Che se avevo un milione potevo prestare invece… 980… Esatto, 1.000 Euro. Non è così. Eppure se si leggono nei vari manuali queste frasi sembrano possibili tutte e due le letture. E uno, il lettore, immancabilmente sceglie la più tranquillizzante delle due ipotesi. Quella che sembra più logica. Esattamente. Anche più onesta. Esattamente. Anche più nazionale. Perfettamente. Invece non è così. Siccome la moneta bancaria ha valore fiduciario, in sostanza le banche sono dei falsari legalizzati che prestano denaro che creano elettronicamente al momento, no? Un denaro che, siccome è creduto, viene utilizzato… Questo mi faccia capire. Io ho questi depositi. In realtà vado a creare denaro oltre i depositi. Esattamente. In percentuale che lei mi diceva prima. 50 volte, per esempio. Quindi in quel momento io vado a creare denaro e lo immetto. Perfettamente. Allora cosa succede? Lo immetto sul mercato. Sì. Lo immetto sul mercato finanziando delle operazioni. Finanziando delle operazioni. Scusi, ma se non è coperto. Ora ci arriviamo. Ok. Perché da quello che ho capito non è coperto. Non è coperto. Certo. Non è coperto. Non è coperto. Non è coperto. Spero di non dover continuare. Non è coperto. Non è coperto. Non è coperto. Non è coperto. Ci siamo capiti. Allora, questa moneta che non è coperta, però, ha una caratteristica particolare. che è creduta e in quanto tale viene accettata negli scambi. Quindi il falsario. Lasciamo stare la banca. Immaginiamo un falsario. La banda degli onesti. Il falsario che cosa fa? Che spende i suoi soldi. Se il percettore della banconota non si rende conto della sua falsità, la riceve tranquillamente. Ed entra in circolo tranquillamente. Entra in circolo significa che compri qualcosa, quindi finanzia allo scoperto una domanda effettiva. Allo scoperto vuol dire che non c'è copertura dietro. Non c'è copertura dietro. È falsa, abbiamo detto? Perfettamente. Allora, con la moneta falsa stiamo comprando qualcosa. Chi produce quel qualcosa, non accorgendosi di niente, accetta la banconota e quindi è per lui profittevole vendere. Quindi la vende, produce e vende. Quindi quella moneta falsa ha reso profittevole produrre e vendere ciò che è stato domandato grazie a quella moneta falsa. Ma questo non è un problema. Il problema è chi va a questa ricchezza prodotta. O no? Come vedremo... Ha due aspetti questo questione. Allora, questa cosa è sconvolgente, mi rendo conto. È una questione sconvolgente. La comprensione di questo fenomeno sarà partita da una predisi, come vedete, è un po' più complessa la cosa. Ma il passo si sta allargando. Esatto, anche perché quello che ne viene è determinante. Sono questioni fondamentali. Ci arriviamo tra poco. Cerchiamo di capire prima il moltiplicatore dei depositi. Quindi praticamente che cosa sta succedendo? La banca sta, in sostanza, creando una moneta elettronica che viene accettata e con questa moneta elettronica si opera sul mercato dell'economia reale. Ci siamo fino a qua. Quindi si crea della ricchezza. Esatto. Normalmente il lettore si ferma qui. Cioè, normalmente uno non ci arriva neanche. Crede, la fesseria abbiamo visto prima, cioè crede che in realtà presti il denaro dei correntisti, quindi non che lo moltiplichi, ma che presti il denaro esistente. Invece sappiamo che crea una moneta elettronica allo scoperto, che è un multilo. Chi arriva a capire questo, a questo punto si preoccupa, si allarma e cerca delle spiegazioni, delle giustificazioni. La spiegazione che si dà a chi supera questa trincea e adesso... E' una trincea mentale. Mentale, mentale, certo. Non è logica, perché non ci possa arrivare logicamente. E' mentale. Poi vedremo perché è mentale, magari io. Sì, esattamente. Allora, chi ha capito questo? Cioè, chi ha capito quindi che la moneta che la banca presta è una moneta elettronicamente creata dal nulla, a questo punto si allarma e chiede quello che ha detto lei prima. Ma che succede poi dopo? E questa moneta si comincia a preoccupare. Perché la concezione ingenua che il pensiero liberista cerca di accreditare è una sorta di idea più o meno idraulica della moneta. Per cui ci si immagina una sorta di serbatoio dove ci sta la moneta, che viene precedentemente immessa, non si capisce bene da chi, e da lì prelevata. Quindi è un po' di una pompa aspirante e pompante che agisce su un serbatoio. Per cui di fronte a una banca... Ma che tutto sommato si mette poi... Ma che dovrebbe essere quella. E per la collettività, no? E per la collettività. Non allo scoperto. Non allo scoperto. Non allo scoperto. Non allo scoperto. Al coperto. Quindi le fischi corrispondono ai soldi che sono stati depositati. Vengono distribuite le fischi. Alla fine del gioco ognuno ha la sua razione di fischi, le cambia con la maniera di sondata e si riprende i suoi soldi. Se ha vinto, ne ha di più. Se ne ha di meno ha perso. Chiaro? Benissimo. Non c'è trucco e non c'inganno. Immaginiamo che durante la partita a un certo punto ci si accorge che uno dei quattro giocatori tira fuori dalla tasca delle fischi esattamente identiche a quelle con cui si sta giocando. Credo che... Che non ha ritirato la cassa un gandolo. No, no, no. Le ha create? Esattamente. Perché semplicemente ha avuto l'accortezza di arraffarne una parte, prima magari, no? Oppure perché sa come sono fatte, le aveva comprate nel negozio e ce le ha conservate, se le ha messe in tasca. Beh, io credo che gli altri giocatori probabilmente gli metterò le mani addosso a questo punto. Perché così non funziona, giusto? Quindi qua in questo momento stiamo parlando di una persona che sta rubando agli altri. Perché sta annacquando, cioè sta diluendo il pacco delle fischi, mettendo delle fischi che fanno diminuire il valore effettivo delle fischi in circolazione. E sta quindi appropriandosi di una parte della ricchezza in maniera frondatoria, truffaldina. Penso che questo sia chiaro, giusto? Chiaro, sì. Mi vengono chissà quante domande, ma poi magari gradualmente... Perfetto. Mi vengono un paio particolari che penso siano estremamente... Allora, quindi uno è preoccupato, è preoccupato del recupero di questo valore numerico e quindi chiede spiegazioni. A questo punto diversi manuali universitari e articoli scientifici e tecnici rassicurano con la seguente frase. Ah, ma non c'è problema. Quando poi il denaro viene restito dalla banca, viene nullificato. Quando il denaro viene restito dalla banca, viene nullificato. Quindi la banca crea il denaro quando lo presta al mutuatario. Quindi il mutuante crea elettronicamente la moneta da nulla. Nel modo che abbiamo detto, non prelevandolo dai depositi, ma creandolo. No, ma creandolo elettronicamente. Ma non vi preoccupate, perché quando il mutuatario restituirà il prestito, questa moneta verrà nullificata. In che modo, scusi, Oppolo? Ora c'è nullificata. Infatti è una balla. Non è vero. Quindi viene detto solo che è nullificata, ma non in che modo che viene. Sì. Di solito chi arriva fino a questo punto si tranquillizza definitivamente. E non chiede oltre. Pochi chiedono ancora, come ha fatto adesso lei, ma è sicuro che viene nullificata? Sicuro che viene nullificata? In che modo mi chiedono. Infatti non viene nullificata. Non viene nullificata per un artificio contabile che adesso sarebbe un po' lungo spiegare, ma c'è una convenzione internazionale per la contabilizzazione dei denari da parte delle banche che consente di fatto questa moltiplicazione. Quindi riguarda come viene sviluppato il dare lavere? Però io le dico una cosa, non conviene neanche entrare in questa questione perché è una questione tecnica che non si presta alla divulgazione. Semmai si può fare un video a parte e chi vuole se lo approfondisce, ma farlo adesso come prendersi no perché tira scemo l'interlocutore. Però quello che invece tutti possono capire in questo momento è una cosa ancora più drammatica di questa ed è, allora cosa ha detto lei prima? abbiamo detto la moneta che viene prestata e viene creata elettronicamente dalla banca al momento del prestito, ma si nullifica la restituzione. Giusto? Benissimo. Io lui ho chiesto come si nullifica. Ecco invece le dico una cosa peggiore. E quella che non viene restituita? Dove finisce? Quella che non viene restituita non si può nullificare. Giusto? Perché se ho detto che la moneta viene creata elettronicamente, ma non ti preoccupare perché si nullifica la restituzione, automaticamente quella che non viene restituita non si nullifica. Quindi già dovremmo avere l'esatta quantità che è stata emessa, deve coincidere con l'esatta quantità che rientra. I problemi sono due, rientra tutta e quella che rientra come si nullifica. Quindi abbiamo due quesiti importanti. Ma il problema adesso è questo, che la realtà dei fatti è che quella che non viene restituita è enorme. Dove finisce? Vediamola subito. Qual è la moneta bancaria che non viene restituita? Mi pare che stiamo facendo un po' quelli che cercano un assassino, no? Eh sì. Un po' gli Aga da Cristo e il cuore della situazione. Esattamente. Allora, qual è la moneta che non viene restituita? Allora intanto cominciamo da quella dei poveri sfigati che non ce la fanno restituire. Quindi in caso di insolvenza del debitore quella moneta non può essere restituita. Ci siamo? Quindi sicuramente tutta la moneta che non viene restituita, che purtroppo non ce la fa restituirla, non si può nullificare. Resta nel circuito. Andiamo avanti. Poi quale moneta non viene più restituita? Quella che viene continuamente rinnovata a ogni scadenza. Perché? Per clientela politica, oppure per amicizia, no? Tutta la moneta bancaria che viene prestata e a ogni scadenza rinnovata e ancora quella successiva e ancora quella successiva non si nullifica mai. se io le faccio un prestito a cinque anni e tra cinque anni le faccio uno a cinque anni, poi a cinque anni, poi a cinque anni, poi a cinque anni… Aumentare sempre più il debito. Esattamente. Questa moneta non si nullificherà mai più. E quant'è la moneta che non viene più restituita per questo motivo? Vogliamo andare… Ma questo riguarda anche il debito pubblico? Anche. Prima del debito pubblico però riguarda sicuramente le multinazionali. perché tutte le multinazionali mercantili che sono inserite all'interno di un sistema, di un club che integra anche i grossi colossi bancari, sostanzialmente americani, cosa vedono? Vedono che le banche, grosse banche dello stesso gruppo prestano i soldi alle multinazionali dello stesso gruppo e ogni scadenza le rinnovano. Quindi questa moneta non si restituisce più e stiamo parlando di decine di migliaia di miliardi. Ma io ancora non ho capito dove finisce. Ora ci arriviamo a dove finisce. Vediamo ancora il debito pubblico. Lei parla di debito pubblico? Giustissimo quello che ha detto lei. Infatti il debito pubblico non è mica collocato presso le banche. L'abbiamo sentito tutti, no? Benissimo. Ma le banche come lo pagano questo debito pubblico? Le banche lo pagano con la moneta bancaria. Cioè quindi le banche creano elettronicamente monete che prestano agli stati che non la restituiscono più. Allo scoperto. Allo scoperto. E gli stati cosa fanno? Restituiscono ma emettono un nuovo prestito e quindi viene rinnovato ogni scadenza. decine e decine di migliaia di miliardi. Che non ritornano? No. Anche perché dal 45 a oggi non si conosce un solo caso. Non c'è un posto sperduto dell'orbe terraqueo dove un debito pubblico sia mai stato rimborsato almeno in parte. Quindi tutto il debito pubblico non si nullifica alla scadenza. Allora quello che avevamo prima immaginato, quella tranquillità non esiste. Perché praticamente cosa vuol dire che la moneta si nullifica alla restituzione se la maggior parte della moneta non si restituisce? Allora siamo arrivati quindi a un bel punto, no? Eravamo partiti dicendo che la moneta bancaria è una moneta allo scoperto e l'abbiamo appena dimostrato. Perché viene creata elettronicamente dal nulla. Deve solo mantenere un certo rapporto aritmetico con i depositi reali. Esattamente. Questo rapporto è minimo. Mi pare che sia minimo. Sì perché in realtà per esempio Basilea 2 stabiliva il 2% ad esempio come riserva. Ma non rispetto ai depositi ma rispetto agli assets. La parola assets, in linea massima l'inglese viene utilizzata un po' come il latinorum di Don Abbondi. Non bisogna impressionarsi con le parole inglesi. Assets significa la ricchezza. E qual è la ricchezza delle banche? I depositi più? Gli immobili? I titoli? Anche i titoli ciucchi? Sì, anche i titoli ciucchi. Interessante. Quindi praticamente una banca deve mantenere un certo rapporto tra la moneta elettronica che crea dal nulla e la ricchezza anche fasulla che possiede. Interessante la cosa. Molto interessante. Molto interessante. In sostanza quant'è la moneta in circolazione? Hanno provato a calcolarla. Una decina di anni fa Lessi, alcuni autori che dicevano che c'era già in circolazione abbastanza moneta bancaria allo scoperto da comprare cinque volte il pianeta Terra. Allora converrebbe rispondere alla domanda che aveva fatto prima lei. Ma dove finisce questa moneta? Mi pare che tanti privati non sono in grado di restituirla. E quello è il meno. Tante società, quindi persone giuridiche, non sono in grado di restituirla. Gli stati non sono in grado di restituirla. Se noi sommiamo tutti questi soggetti che non sono in grado di restituirla, gli stati nessuno, persone giuridiche tantissime, persone fisiche tantissime e sono sempre più in aumento e c'è una quantità enorme che non torna. Esattamente. Dove finisce? Prima di rispondere dove finisce questa moneta vorrei moltiplicare per 10 quello che abbiamo appena detto. Perché dobbiamo parlare della moneta cartolare. Eh già. Perché è mica finita qua. La moneta bancaria è una roba da medioevo. Ma ora siamo nel mondo dell'elettronica. Siamo nel mondo della finanza creativa. E lei sa che si può anche comprare un'azienda con dei derivati. Quindi io potrei comprare un'azienda con dei titoli... Spiegavo bene per chi dei nostri amici non sa cosa è un derivato. Cosa è un derivato? Poi magari riprendiamo la... Un derivato è... Allora, i derivati si dividono in due grosse categorie. I derivati assicurativi e i derivati speculativi. Questa è la divisione teorica tra i derivati. Il derivato assicurativo è, in sostanza, un meccanismo altra se quale io mi assicuro contro un certo evento. Se, per esempio, ho fatto un prestito con un mutuo... Una cosa che conoscono tutti. I mutui a tasso variabile. Mi scusi, il derivato parte da un contratto? Sì, è un contratto il derivato. Parte da un contratto. È un contratto. È un contratto. Allora, per esempio, immaginiamo che una famiglia stia comprando un appartamento e una parte dei soldi lo paga con un mutuo. Allora, questo mutuo, a un certo punto, per una serie di circostanze, l'ha contratto a tasso fisso oppure a tasso variabile. Supponiamo che non gli piaccia, per esempio, l'ha fatto a tasso variabile e ha paura. Si preoccupa. In famiglia, meglio di no, facciamolo a tasso fisso anziché variabile. Dice, ma è di più il tasso fisso? Sì, vabbè, però dormiamo tranquilli, sappiamo di che morte moriamo. Sono più assicuranti. Esattamente. A questo punto tornano in banca e dicono, vorremmo rinegoziare il mutuo e farlo a tasso fisso anziché variabile. La banca dice, ma il mutuo è stato fatto. Però le posso consigliare una... Potete assicurarvi. Ecco, potete, se volete, assicurarvi con una consociata nostra, che in molti casi e diversi clienti si sono rivolte a noi, noi le abbiamo mandato loro, si sono trovati tutti bene, e le fanno un'assicurazione. Per cui, praticamente, questa società è disposta a comprare il suo flusso di tassi variabili e in cambio le dà un flusso di tassi fissi. Così, voi pagate il tasso fisso e la differenza, se ci guadagnate, vincete voi, se, come è più probabile, ci perdete, guadagnerà l'assicurazione. Assicura contro la variazione dei tassi. Mi faccio carico del rischio. Tu hai fatto un mutuo di 100, questo mutuo ce l'hai a tasso variabile, io te lo faccio al 5%, per esempio. Mi assumo il rischio. Mi assumo il rischio. Esattamente, mi assumo il rischio. Quindi questo derivato è chiamato vaniglia, perché negli Stati Uniti si usa il termine vaniglia per dire il gelato più semplice di tutti, perché loro usano gelati molto vari opinti, sono di vari sapori, il vaniglia è proprio quello più semplice. Quindi il derivato assicurativo è questo, si chiama derivato vaniglia, quindi è il derivato assicurativo. Quello più semplice, più più trasparente, come i passaggi magari. Esatto, ed è assicurativo. Adesso immaginiamo però, quindi che è un'assicurazione, immaginiamo che, parliamo di assicurazione, immaginiamo che io vedo che la macchina del mio vicino viene lasciata sempre abbastanza malamente, spesso si scorda le chiavi, la lascia accesa, lascia le chiavi in macchina, si assenda, va al bar e torna. A un certo punto io vado al mio assicuratore e dico, vorrei assicurare la tua moglie del mio vicino. Se non ho capito farla. La sua auto, no no no, quella è il mio vicino, la mia, guarda, ci vado bene. Ma siccome sono convinto che il mio vicino è pirla, il mio vicino se la fa rubare, io la vorrei assicurare. Guarda, non si può fare. Perché non si può fare? Per legge. Di solito la gente rispetto a una risposta accia di questo tipo si tranquillizza. Perché, per chissà quale ragione, nella sua mente fa l'equazione giustizia e legge. Come se la legge con la giustizia c'entrasse qualcosa. Errore gravissimo. La legge ciò che qualcuno ha ritenuto che sia giusto. In altra separata sede potremmo parlare anche di questo, del rapporto che esiste tra legge e giustizia. Ok. Però in questa sede vogliamo capire soprattutto un'altra cosa. Certo. Vogliamo capire che in sostanza l'assicurazione non si può fare quindi su un bene altrui. Ma meno ancora si possono fare 100 assicurazioni su un bene altrui. Mille assicurazioni su un bene altrui. Mettiamo che io voglio assicurare mille volte l'automobile del mio vicino. Ecco, come vi renderete conto una cosa del genere? No. Quindi voi condividete la posizione della legge che vieta una cosa del genere. E' permesso quei derivati invece. Cioè? I derivati speculativi si possono fare. Si possono fare assicurazioni anche se non ci sono mutui di sotto. Facciamo il caso del Vaniglia prima. Cosa facevo con la famiglia? Cambiava un flusso su 100 mila Euro a tasso variabile con un flusso di 100 mila Euro a 5%. Giusto? Ma quella famiglia se volesse tornare indietro e dire, ma senti una cosa, perché non ne facciamo mille di questi? Ma noi abbiamo comprato una sola casa. Che ci fa? Vediamo se ce lo fanno. Allora immaginiamo che quella famiglia torna, immagrici senza. Però noi abbiamo fatto questo derivato Vaniglia. Però abbiamo pensato, possiamo fare altri mille? Ma se avete comprato solo una casa. Ma questo come si collega a quello che accade realmente? La legge. Come si collega? Si collega nel modo più tragico possibile. Ci fa un esempio. E MPS le dice niente? Sì, mi dice molto. Perfettamente. Ora ci arriviamo. Scandolo dei subprime le dice nulla? Certo. E i prossimi scandali sicuri che verranno, forse non le dicono ancora nulla, ma finché la stampa di questo non si perde, saranno ancora altre crisi uguali a queste. E mi pare di capire che lei stia dicendo che con questi meccanismi necessariamente si creano di questa situazione. Necessariamente. Vediamo come funziona il meccanismo. Allora, vabbè, stiamo facendo una parentesi sempre più ampia, però stiamo capendo anche un po' meglio la frase di Roosevelt, probabilmente. Io sono giunto alla conclusione di tutto ciò che mi hanno insegnato in economia e gli aspettamente si è rivelato totalmente falso. Quello che sto dicendo penso che stia facendo veramente venire i capelli alla Fratelli Fighiera. E tutto questo va nel pensiero unico in economia. Eh, certamente. Perché abbiamo visto… Allora, abbiamo visto prima il discorso sull'assicurazione. Quindi, se uno pretende di assicurare mille volte l'auto del vicino, lo cacciano a pedale, sciolgono i cani. Ci siamo? Quindi non si può fare, è vietato la legge. Invece, una famiglia che tornasse nella stessa banca e volesse fare altre mille derivati speculativi, assicurativi, derivati assicurativi sul mutuo di casa, la legge glielo consentirebbe. Ecco la differenza. E a chi però dovrebbe farlo? Perché dovrebbe farne altre mille? Sarei tentato… Ah, perché lo fa la famiglia? Sì. Benissimo. Immagini, fanno questo conto e sono sicuri che i tassi caleranno. No, perché dovrebbe farne mille anziché uno? Allora, se sono sicuri della variazione futura dei tassi, a quel punto faranno una speculazione. Ci guadagnano. Guadagnano la differenza tra il fisso e il variabile. Su ogni contratto? Certamente. Moltiplicato mille volte. Prima ti sei assicurato perché avevi un mutuo e ti sei assicurato su quel mutuo. Ma se lo fai mille volte non stai più assicurando, stai speculando. Ah, ecco la differenza. Esattamente. Quindi lo stesso contratto… Prima però è una razio, non una motivazione. Certamente, certamente. Limitare i rischi in certe ipotesi… Allora, quindi un derivato è speculativo o è assicurativo se c'è il sottostante. Se non hai sottostante, per quanto dal di fuori sia teoricamente uguale, non è uguale. L'assicurazione è uguale in ogni caso, ma se assicuro mille volte la mia macchina è diventata una speculazione. Perché quindi mi conviene che me la rubano la macchina. Perché finché assicuro una volta la mia macchina non mi conviene che me la rubano. E piango con un occhio se me la rubano che me lo recupero quello che mi restituisce l'assicurazione. Ma se io l'assicuro mille volte io ci guadagno. Ho interesse che la rubino la mia automobile. Ci siamo? La nostra legge non vuole che questo accada. La legge vieta quindi di stipulare mille assicurazioni per lo stesso proprio bene. E ha maggior ragione di farlo per beni altrui. Per beni altrui. Invece la nostra legge consente che questo si possa fare in finanza. Consente i derivati speculativi che sono la regola. Oggi la MPS ha problemi per dei derivati che non si capisce bene. Perfettamente. Non si sa quanti sono questi titoli tossici in circolazione. Sappiamo che molti sono stati spalmati presso il pubblico, si dice il parco buoi, no? Presso i risparmiatori. Sappiamo che tanti sono stati venduti ad amministrazioni regionali, comunali, provinciali, enti pubblici vari. A tante imprese private. Addirittura sappiamo che molte imprese sono state taglieggiate. Sono state imprese che sono state costrette praticamente a fare, a stipulare dei derivati speculativi. perché magari era un arrasso del Castelletto e il funzionario con cui trattava diceva guarda io non ti posso coprire più di tanto. Almeno fammi fare bella figura con la direzione e stipulami questo contratto, questo derivato. Tanto guarda, non ti preoccupare, è un derivato sicuro, però almeno io faccio vedere che ho fatto qualcosa. E ti copro un po' con lo sconfinamento. Ma le amministrazioni e anche tanti privati che cadono poi in queste, sono delle vere e proprie truffe, no? Truffe o anche estorsioni? Estorsioni. A seconda dei casi. Poi a seconda della fattispeggio si crea il reato. Ma voglio dire, c'è conoscenza su queste cose o in realtà si fa affidamento sul fatto che c'è molta ignoranza? Allora, io la dico di peggio. C'è molto palcoscenico ma non c'è sostanza. Allora, le dico di peggio. I derivati si sono fatti in maniera così complicata, ma così complicata sia dal punto di vista aritmetico sia dalla loro composizione interna, che di fatto né quello che vende un derivato né quello che lo compra, hanno la più pallida idea effettivamente di come funziona. Sarebbe un po' come dire che io devo vendere un ciclotrone, un acceleratore di particelle atomiche. Insomma, c'è un rappresentante di acceleratori di particelle atomiche. Io non ne capisco nulla di accelerazioni di particelle atomiche. Non so neanche perché dovrebbero accelerarsi e non stare buonine, non stare ferme. Ci siamo? Vabbè, qui dicono che devo venderli. Allora vado in giro a fare il piazzista di acceleratori di particelle atomiche. E faccio sottoscrivere all'acquirente che è informato su quello che gli sto vendendo. Lui firma, ma in realtà non ne capisce niente di acceleratori di particelle atomiche. E neanche io non ne capisco nulla di acceleratori di particelle atomiche. Ma mi hanno detto in ditta, tranquillo, lo puoi vendere. Guarda che è un prodotto di qualità, non ti preoccupare, è una cosa fidata. E' garantito poi da questa casa. Cosa dirò all'acquirente? Guarda, io non capisco bene com'è fatto, però ti assicuro che... Comunque mi hanno detto in ditta che è una roba al bacio, la puoi comprare, tranquillo. Ma che razza di vendita è questa? Però senti, firma qua, firma che sei informato. Si chiama vendite emozionali, non razionali. Esattamente. Firma che sei informato, è quello firma che è informato, ma in realtà non è informato. Ma non sono informato lui, non farò neanche quello che vende. Ma guardi che le ultime affermazioni dell'ex dirigente dell'MPS sono state del tipo, ah ma io non ne capisco dei derivati. Si rendete conto che stiamo parlando di una banca che avrebbe stipulato derivati, lasciamo stare tutto il resto con un gruppo dirigente con le ne capisce dei derivati? Interessante la cosa. Ma può essere anche conveniente dire non ci capisco niente. Può essere conveniente, lo scopriremo. Lo scopriremo, è un tentativo, lo scopriremo stare facendo. Forse, lo scopriremo stare facendo. Ma quello che è importante capire è che questi derivati, quindi praticamente, ci stanno facendo entrare in un mondo dove la terra sotto i piedi si comincia a muovere. Già avevamo vacillato con la moneta bancaria allo scoperto. Ma cosa sono questi derivati? Cosa vuol dire che io compro un'impresa con dei derivati speculativi? Cioè praticamente io stipulo mille assicurazioni sulla macchina del vicino praticamente e con queste mille assicurazioni io ci compro un'azienda. Beh insomma c'è un po' da preoccuparsi direi no? Ma noi dicevamo quindi… Comunque è moneta questa. È moneta. È moneta che è dieci volte maggiore di quella bancaria. Cioè questa moneta… È moneta perché è oggetto di scambio no? Si, viene creata, circola. E questa moneta che circola è in rapporto 20 a 1 circa con il PIL. Cioè quindi stiamo parlando, o anche di più, quindi stiamo parlando di una enorme quantità di moneta cartolare priva di copertura. Per fare un esempio più facile da capire, dobbiamo capire questo. Facciamo l'ipotesi che aumenta l'indice di forza oppure che aumenta il prezzo al metro quadro degli immobili. Ok? Senza che però parallelamente sia migliorata la qualità degli immobili oppure sia aumentata parallelamente la ricchezza reale che i titoli dovrebbero rappresentare. In questi casi sono tutti contenti. Perché dicono siamo più ricchi. Siamo chi? Che succede se aumenta il valore nominale dei cespiti? Significa che la moneta cartolare e, tenetemi forte, la moneta immobiliare… La moneta immobiliare? Immobiliare. Gli asset famosi? Esattamente. Gli asset immobiliari sono aumentati di valore. Quindi possono comprare più beni e servizi di prima. Ma il loro prezzo è aumentato solo speculativamente. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una inflazione speculativa dei cespiti. Inflazione speculativa dei cespiti. Cioè abbiamo creato moneta allo scoperto che rende più ricchi solo i detentori di questi cespiti. A danno di chi? Di tutto ci resta la popolazione. Falsari legalizzati. Mi sto perdendo io. Lo credo bene. Perché questa visione della moneta non è quella che circola. Sto mettendo anche nei panni dei nostri tele spettatori. Ma come si fa a stare dietro a queste cose? Ma infatti non ci si sta dietro. Allora aspetta. E salta tutto. Prendiamo un po' il discorso. Dicevamo quindi questa moneta viene immessa e poi viene detto ma viene poi nullificata. E abbiamo visto che è una valla. E' una valla per due ragioni. Uno perché non tutta ritorna. E in questo lei ci aveva detto prima. Privati, aziende, stati, derivati. Abbiamo fatto una lunga parola di derivati. Non viene restituita. No. Inoltre anche quella che rientra in banca si dice che viene nullificata ma non ci hanno spiegato come. E infatti non viene. Allora la domanda adesso gliela faccio. Dove finiscono? In due posti sono i posti della finestra i soldi. O vengono tesaurizzati. Scusi vengono? Tesaurizzati. Che vuol dire? Messe da parte. Accantonati. Tipo il paperon dei paperoni. Il deposito di paperon dei paperoni. Sotto il mattone. Sì. Oppure è impresso per sistemi bancari vari, paradisi fiscali, dove si vuole. Quindi o viene tesaurizzato oppure viene speso. Se viene tesaurizzato alla fine non fa gioco perché resta in una sorta di limbo. Cioè dobbiamo immaginare in sostanza che esistono due circuiti. Il circuito della economia reale dove si produce, si lavora e si vende. Beni e servizi. Quindi il circuito che si potrebbe chiamare denaro, merce e denaro. Dove il denaro si moltiplica, cioè si trasforma in una quantità maggiore di denaro attraverso la sua previa trasformazione in merce per il mercato. Quindi attraverso l'attività dell'uomo in sostanza. Esattamente. Allora io uso il denaro, produco dei beni e dei servizi, li vendo e guadagno il profitto. Questo è il circuito dell'economia mercantile, capitalistica. Questo è il circuito dell'economia reale. Benissimo. Adesso immaginiamo invece che faccio soldi con i soldi. Faccio soldi con i soldi. Allora intanto uno dovrebbe chiedersi ma che significa fare soldi con i soldi? Come si va a fare soldi con i soldi? Perché guardate che dire fare soldi con i soldi è come dire fare soldi con niente. Cioè fare il falsario legalizzato, più o meno legalizzato. Se io creo moneta in più, vi ricordate il discorso dei giocatori di povero con le fischi? Sì, con le fischi trasse. Il denaro. Dove il denaro si trasforma in maggior denaro senza la sua previa trasformazione in merce. Ma ci può fare un esempio in pratica? In banca. Lo tengo in banca. Lo tengo in banca. Lo tengo in banca, fa gli interessi, fa altro denaro. Come deposito in banca. Esatto. Oppure ci scommetto sui titoli e ci faccio ricchezza. No? Oppure semplicemente la blocco in titoli e la lascio lì. E anche in questo caso io cosa ho fatto? C'è una forma di immobilizzazione. Esatto. Una forma di immobilizzazione. Quando mi serve la utilizzo. Allora vorrei che tanto per cominciare ognuno di voi si chiedesse come sarebbe bello avere questa stampa dei soldi. Pensate se ognuno di voi avesse la possibilità di pagare un assegno con una cambiale. E poi la cambiare con un altro segno. Con un altro segno che mi stampo io. E poi con un altro segno. Mi stampo io. Che ti stampi da solo. Ma che problemi ci sarebbero nella vita? Nessuno. Pagano una carta con una carta. Benissimo. E questa cosa voi non la potete fare giusto? Noi no. Mettetevi un attimo nei panni di chi lo può fare. Questa gallina nelle uova d'oro. Ve la giochereste? Primo problema. Al condatin non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Quindi, prima cosa, questo video non deve essere fatto. Queste cose non devono essere conosciute. Bisogna impapocchiare fesserie su fesserie. Bisogna costruire l'economia in modo che nessuno arrivi a capire queste cose. E si faccia dei film, tutti i suoi fantasiosi, una ricostruzione della moneta tutta fantastica che non è assolutamente quella reale. Perché chi ha il potere di creare la moneta se lo tiene ben stretto questo potere e lo sottrae agli stati. E se lo tiene come elite. E non vuole che sia sottoposto al controllo democratico. Perché il controllo democratico della moneta farebbe finire questa pacchia. Ma per mantenere questo pensiero unico in economia che cosa bisogna fare? Voglio dire, questo pensiero unico in economia si mantiene semplicemente per ignoranza? Si mantiene perché qualcuno è veramente convinto? Perché rimane all'interno del recinto? Si mantiene perché magari io mi in possesso dell'università? Libri di testo? Ci sono due spiegazioni possibili. Perché mi pare questa cosa imprigioni l'uomo? Si infatti le propongo due spiegazioni. Imprigioni il lavoro dell'uomo? Assolutamente si. L'esigenza creativa dell'uomo? Certamente. Certamente. E infatti vorrei solo completare il discorso di prima che la moneta bancaria e finanziaria allo scoperto che viene immessa nel circuito del denaro, merce e denaro. Rende conveniente la produzione e quindi fa espandere investimenti, occupazione e reddito. Crea ricchezza. Quindi si può espandere il sistema solamente utilizzando così la moneta allo scoperto. Allora chi crea la moneta allo scoperto la può utilizzare così per il bene collettivo. Oppure cosa ha per il bene suo proprio individuale. La differenza se lo fa qualcuno per la collettività o se lo facciamo a fini privati. Esattamente. Mi pare che attualmente venga fatto a fini privati. Esattamente. Per farlo a fini collettivi bisogna sottoporre a controllo democratico la creazione e emissione della moneta. Credo lo Stato. Esattamente. Deve essere democratico. E quindi la prima cosa che conviene dire è che tutto ciò che è pubblico non funziona e tutto ciò che è privato è invece sì. La ideologia sul fatto che tutto ciò che è politico fa schifo, tutto ciò che è Stato fa schifo e viva i privati, privatizziamo. Quindi viva i mercati. Esattamente. Serve a questo. Che serve apposta che questo sia fatto coscientemente o non coscientemente la sua domanda e ora ci arriviamo. però sta di fatto che questa ideologia che non è scienza è ideologia serve a giustificare questo. Esiste una ristretta elite che fa quello che vuole a livello planetario perché crea moneta come la vuole, addirittura la sottrae agli stati la possibilità di creare moneta e con questa moneta la desaurizza o la spende come gli pare. vuoi fare il canale Suez? Facciamo il canale Suez. Chi ci vuole? Posso, posso. L'immagine che mi viene in questo momento è questa di una grande illusione e di un grande mago silva mondiale. C'è questa possibile spiegazione. Sì, potrebbe essere fatta. È una grande illusione. In realtà questo pensiero unico ci fa vivere in una grande illusione. Sì. Che però, attenzione, sottrae a chi realmente crea ricchezza per darla a chi la ricchezza non la crea ma la prende semplicemente. Esattamente. Quindi è uno sfruttamento di pochi sulla massa. Certo. Il problema è capire se questa cosa è cosciente e organizzata oppure no. Le faccio un esempio. Immaginiamo la scoperta della ruota. La scoperta della ruota, come tutti sanno, è una scoperta situata, se no, a poche migliaia di anni fa. Il che vuol dire che l'uomo, più o meno dappertutto, trascinava le cose con grande fatica senza le ruote. Quando è stata scoperta la ruota? Se noi avessimo detto che c'era un complotto per invietare l'uso della ruota, non avremmo detto una fesseria? Sì. Dipende. Allora, ad un certo punto viene scoperto. Una fesseria potremmo non dire. Esatto. Allora, in questo senso, ipotizzare che la scoperta della ruota è stata imboscata per 40.000 anni è una tesi che si potrebbe anche sostenere. Però io credo che tutti sarebbero dall'avviso che no, che è una cosa andata diversamente. che a un certo punto l'hanno inventata, appunto. E l'hanno inventata in momenti diversi nelle varie aree geografiche. ma che quindi non c'è dietro una spiegazione, un complotto, dietro la scoperta della ruota da un certo momento in poi soltanto. Però mi scusi, potrei anche citarle magari qualche scritto trovato all'inizio del secolo in cui si affermavano determinate cose, no? Eh sì, certo, certo. Allora, è affascinante. Stare complotto o non complotto, anche se qualcosa è comunque importante, ma voglio dire, chi attualmente ci governa, i governi che hanno preceduto quelli che attualmente ci governano, i governi europei, i governi americani, sono a conoscenza di questa, come dire, di questa magia. Allora, per rispondere a questa domanda dovrei innanzitutto dire, quello che ho detto era difficile da capire? Sinceramente no, è molto semplice. Se la seguo è facile, se mi perdo... Quindi dovrebbero saperla tutti. Una cosa semplice, qualunque studente di economia dovrebbe arrivarci da solo. Eh ma credo che sui libri di economia questa cosa non venga. No, infatti non vengono dette. Questa tesi non la legge da nessuna parte. La legge del nostro sito la legge. Questo è intenzionale o è colposo? La invenzione della ruota. E' intenzionale o colposa? No, non la invenzione. La imboscata della ruota. La imboscata, dipende. E' stata imboscata la invenzione della ruota o no? Dipende. Non si sa. Allora, facciamo le due ipotesi. Ok. Le due ipotesi. Allora, questa cosa qui è una cosa abbastanza chiara. Da quanto tempo la si conosce? La si dovrebbe conoscere. Per esempio la si dovrebbe conoscere almeno dalle scoperte geografiche. Perché dalle scoperte geografiche? Perché quando viene scoperto l'oro delle Americhe, negli stessi anni i portoghesi doppiano il capo di Buona Speranza e arrivano nelle Indie sotto l'Africa. Circomnavigando l'Africa. Mi scusi, mi scusi. Si. Ho fatto una riflessione. Ho fatto una riflessione e se io capisco che tu deliberatamente questa conoscenza me la vuoi nascondere, allora è chiaro che è deliberata. Si. Se io ho un'intera stampa che mi nasconde questa cosa, se ho degli economisti che si, come dire, che si strappano le vesti per difendere questa posizione nonostante qualcuno gli spieghi che le cose stanno diversamente. Se tu diffondi libri che parlano esclusivamente di questa cosa e tendi, tenti di non far circolare altri libri, allora devo capire, Ioppolo, che c'è dietro un'intenzione precisa. Oppure? No. Oppure no. Mi spiego meglio. Però, francamente, tutte queste forze in capo per nascondere... Però, qua dobbiamo fare un discorso di storia della scienza. Ok. Un atteggiamento tipico della scienza è quello della ostilità granitica nei confronti di ogni novità. Cioè, nella scienza, la scienza ufficiale si divide in scienziati e dotti. Dio ci scambi dalla ignoranza dei dotti. I dotti sono persone che hanno costruito la loro corriera sul vecchio paradigma. E ci tengono. E dopo tanti anni... Perché ne va dell'investimento di una vita, della loro posizione, del mantenimento di uno status sociale... A un certo punto arriva uno stronzetto e dice guardate che avete sbagliato tutto perché le cose non stanno così. Ben si cosa? Non so, i vaccini? No, i vaccini fanno male. Oppure, non so, il cancro? Ma il cancro è benefico. Va solo monitorato, come dice Amer, ad esempio. Oppure altre cose di questo tipo. Sapete cosa prova uno scienziato tolemaico nei confronti di Copernico e Galileo? Ma se Galileo... Una chiusura a priori. Se Galileo non fosse stato amico personale del Papa e non avesse discusso per dieci anni con il Papa, prima quando era cardinale, prima che diventasse Papa, di astronomia... Nel momento in cui va sotto processo perché presenta la tesi eliocentrica, quindi il sole al centro e la terra che gira, rispetto alla tesi geocentrica, terra al centro e il sole sostenuto dai tolemaici... Ma guardi che se Galileo ha salvato la pelle è solo per quello. Se l'avessero messo nelle mani di un'equipe di scienziati tolemaici, ma l'avrebbero sicuramente ucciso. Senza il mio dubbio. Il fastidio che prova uno scienziato, mi rimangio, un dotto rispetto a una novità, a una nuova tesi, è lo stesso fastidio che prova uno che studa come un porco mentre è in autostrada ingolonnato da due ore... e c'è un'faccia di cavolo che lo sorpassa sulla destra come se niente fosse... Gli viene di sbattere fuori strada, gli vengono le manie omicidi, la bestia gli viene, lui incolonnato da due ore... E come? A un certo punto sono 50 anni che insegno queste cose, insegno che la terra sta al centro... Arriva questo qua e mi dice che la terra gira intorno al sole... Ma stiamo scherzando! Ma io lo sbatto fuori strada! Come si fa a dire ho sbagliato tutto? Quindi abbiamo due fronti però da affrontare. Abbiamo il fronte di chi, scusi questo me lo conceda, è una mia convinzione, la piglio come pienone personale, non come certezza, ma io sono estremamente convinto che c'è qualcuno, tanti, che ce lo vogliono nascondere. Poi abbiamo invece un'altra grossa fetta di persone in buona fede, i famosi dotti. Abbiamo i dotti e poi abbiamo la massa che in realtà sta là e non ci ha capito niente, non ci ha capito niente, c'è problemi quotidiani, sembrano cose complicate, i media fanno tutto per complicarle con il discorso che diceva prima, sono tutti dogmi messi là, insomma che uno giustifica, sembra giustificare l'altro. Ma allora come ne usciamo? Come ne usciamo io? Prima però bisogna capire questo problema della scienza. Io ricordo tanti anni fa nel 1978 parlavo con Sergio Zancirovemi, allora responsabile dell'insegno di economia a Frattocchia, allora c'era Frattocchia la scuola di partito per sindacati politici e gli esposi, io giovanetto, giovane, insegnante di economia, giovanissimo, gli esponevo con timidezza le scoperte che avevo fatto. Lei insegnava anche economia? No, io mi sono lavorato in giurisprudenza, però ho amato l'economia, ho fatto una sola materia di economia a giurisprudenza e mi ha affolgorato, mi è piaciuto moltissimo e quando poi l'ho dovuto insegnare per 20 anni sono stato contento di farlo, solo che però mentre studiavo scoprivo tutte le magagne del pensiero unico e all'inizio pensavo di sbagliare io di sicuro, figurati, può essere tutto sbagliato il pensiero unico, ma no, più facile sia sbagliato io che non il pensiero unico, però andavo a controllare, verificavo, era sempre giusto, anzi trovavo ancora più dimostrazioni e spiegazioni di quello che pensavo, beh, insomma, nel 78 vado a parlare con San Girolami, rispongo il mio pensiero e lui mi dice, guarda questo è un problema di storia della scienza, mi dice, è così, tu devi immaginare una partita di calcio, non so, per esempio, Poggi Bonzi Siena, siamo a casa del Poggi Bonzi, ci sono 3.000 tifosi del Poggi Bonzi e 100 tifosi del Siena, va bene? Tutti gridano Forza Poggi Bonzi o Forza Siena, che cosa sentiamo? Sentiamo Forza Poggi Bonzi, giusto? O si mettono a gridare in una fase, in una pausa della partita, dopo non c'entra niente, Forza Siena, oppure non si sente mai Forza Siena, solo Forza Poggi Bonzi, quindi il problema è solamente questo, quelli che dicono le cose che dici tu, mi diceva San Girolami, siamo in tanti a dirle, mentre una dittatura usa la brutalità della censura, una democrazia formale usa la più raffinata sordina, mette praticamente la cassa di disonanza al pensiero unico e la toglie alla critica al pensiero unico, è come se dicesse, parla scemo, tanto chi ti ascolta? Tirare in ballo il complotto, è possibile, sicuramente è una spiegazione possibile, ma non c'è bisogno, ma non c'è bisogno, pensavo a quella che è successa di bella, quando hanno fatto la verifica dopo tanti anni gli hanno dato i casi terminali più disgraziati, che non è riuscito a risolvere, allora niente, è quello che deve essere un mago naturalmente, e così via, ma vale per tante altre cose, vale anche per diverse cure per il cancro, In medicina è frequentissima questa cosa qui, ma non solo in medicina, in tutti gli ambiti, ma anche negli ambiti della scienza, pensate a quello che sta succedendo con la fusione fredda, poveri disgraziati Ma vi ricordo c'è un bellissimo libro di Thomas Kuhn, proprio sulla scienza Però sì, diciamo che il complotto è molto suggestivo, perché in effetti se io fossi un membro dell'elite credizio finanziaria, ci terrei particolarmente che non si sapesse in giro che cos'è la moneta Cioè quell'idea idraulica, quella idea così sciocca, mi piacerebbe che fosse quella vissuta da tutti E in effetti questo è il pensiero che c'è in giro, per cui non conoscendo come funziona la moneta, non se ne chiede il controllo democratico Ma il controllo democratico è fondamentale per far funzionare il capitalismo Quindi siamo partiti di Oppolo parlando appunto, dicendo innanzitutto lei chi è? Lei è un avvocato, economista, presidente del Ciclo degli Scipioni E il Ciclo degli Scipioni mi pare è noto ed è anche famoso E fa un vent'anni che si occupa Ed è noto anche famoso perché si occupa appunto di questo pensiero unico in economia Esattamente Noi abbiamo fatto un giro intorno a questo pensiero unico in economia E siamo arrivati alla conclusione, credo abbastanza chiara e forse anche incontestabile Che di questo pensiero unico non c'è niente di scientifico Sono dogmi su dogmi E sono dogmi che qualcuno ha interesse che rimangano tali Mischiando un po' le carte, rendendo tutto complicato in maniera tale che non si capisca Perché questo pensiero unico pare che porti rendite a qualcuno E impoverisca invece la massa Possiamo vedere come? E questo è un concetto, ho capito bene finora? Assolutamente sì, e vogliamo capirlo un po' meglio nei dettagli? Suggerisco ai nostri spettatori di sognare ad occhi aperti E immaginare di essere ricchissimi Ma non ricchi, ricchissimi Io ricordo che quando insegnavo per esempio c'era una mia amica E avevo problemi quando si trattava di offrire il caffè Perché poi lesse sui giornali che il suo patrimonio ammontava 6.000 miliardi delle vecchie lire Io avevo capito che era ricca, ma così ricca proprio no Era una collega, insegnava pure lei 6.000 miliardi di patrimonio E io ricordo che mi sentivo un po' fesso Perché sai, si usa, no, offro io, no, offro io, mi offendo Però effettivamente quando si tratta di offrire a una che ha un patrimonio di 6.000 miliardi Un po' scemo ci si sente Ma si può offrire una catena di barri Esattamente Allora immaginate per un momento di avere 6.000 miliardi Che succede? Quindi ora potremmo dire Fatto il rapporto costo della vita eccetera Potremmo dire 6 miliardi di oggi Di euro 6 miliardi Se immaginiamo di avere quindi, cosa? 500 appartamenti Di avere un bel po' di imprese Titoli di vario genere Depositi Possete anche magari qualche banca Immaginiamo di avere una ricchezza di questa portata Adesso chiedetemi Chiedetevi Quale sarebbe il vostro desiderio? Cioè, rispetto a alcuni temi fondamentali Il primo tema è la inflazione Il secondo tema è la deregulation borsistica Il terzo tema è la deregulation valutaria Il quarto tema è il cambio Cosa volete su questi 4 argomenti? Quindi immaginiamo di fare questa domanda Cosa possiamo fare per voi? Non penso che faccio fatica a seguire Ti vediamo lì uno per uno È semplice Primo problema L'inflazione Anzi, il quinto problema è la tassazione Cosa ne pensate di tassare i patrimoni? Assolutamente no! Assolutamente no, è certo Voi sapete che si dice solamente i tassi amano le tasse Per il resto tutti gli altri le odiano le tasse E non si è mai visto un ricco Che abbia mai gradito una tassa che fosse maggiore di zero Cioè, tasse zero Non ne vuole fare Non c'è niente da fare Per mantenere il valore Certo, perché più è bassa l'inflazione Più valgono i miei cespiti Più alta l'inflazione E meno valgono i miei cespiti Quindi io voglio Che la inflazione sia debellata A qualsiasi altrui costo Ne abbiamo visti tre Quindi sono, le ripeto Quelli sono Uno Tasse Due Inflazione Tre Borsa Quattro De regolazione valutaria Cioè, prendete Regime valutario Quindi import-export Il regolamento Regolazione Insomma Dell'import-export La bilancia del regamento Esattamente E ultimo argomento Il cambio Il cambio Qual è l'opinione di uno che ha 6 mila miliardi Su questi cinque argomenti E qual è l'opinione di uno che non ce li ha Perché cambia Cambia tutto A seconda se io li ho o se non li ho Siccome la gente non li ha Non si mette nei panni di chi li ha E quindi non fa questo ragionamento Quindi non si informa nemmeno su queste cose No, no Però Ma non viene neanche in mente Pensa addirittura che Una leggenda statistica L'essi una ventina di anni fa Diceva che l'80% dei tutti i stati Sosteneva di avere un reddito medio Quindi C'è parte della gente Scusi Natto Scusi Natto Se no mi perdo questo pezzo Allora Vuol dire che se ho un'enorme ricchezza Non solo queste cose Sono nei miei pensieri Ma tenterò di influenzare delle scelte Assolutamente sì E in che modo? Quello lo vediamo tra poco Prima vediamo cosa vuole Quindi comunque Mi rimane in testa Che se io ho queste ricchezze Voglio influenzare le scelte Certamente Poi magari lo riprendiamo Lo riprendiamo tra poco Allora Quali sono queste cinque scelte? Allora Per quanto riguarda Abbiamo detto Le tasse Niente tasse Voglio che le tasse le pagano solo gli altri Io non voglio pagare tasse E sono in grado di influenzare Esattamente E cosa voglio quindi anche? Che la spesa pubblica sia bassa Perché Meno Spesa pubblica Meno tasse Ok? E quindi nella confusione Anche meno tasse io Comunque Se poi addirittura I disoccupati Volessero pagarsi con le loro tasse I sussiti di disoccupazione Sarebbero anche fatti loro Però tutto sommato Vedremo dopo che Neanche questo mi andrebbe bene No Devono essere morti di fame Ma lo scopriremo tra poco Allora quindi Prima regola Tasse Zero Seconda regola Inflazione Zero Perché inflazione Zero? Perché l'inflazione Danneggia i redditi fissi Non danneggia i redditi variabili Il profitto Si ricostituisce ciclicamente Quindi basta aumentare i prezzi E per i salari Basta aumentare i salari In corrispondenza A scala mobile E quindi Si riesce a recuperare Un equilibrio mobile Come il cavallo Che galoppando Mantiene sempre l'equilibrio Anche se magari Non tocca neanche terra Invece Cosa serve Se uno ha un reddito fisso? L'ideale sarebbe addirittura La defazion Sarebbe addirittura Che i prezzi Calassero In modo che I miei cespiti Valessero sempre di più Però quantomeno Facciamo a zero Comunque la più bassa Inflazione possibile E rendimenti Quindi anche alti Quindi saggi di interesse Alti mi servono a me Che il capitale Si è remunerato molto Quindi mi serve Tutte queste cose qua Poi cosa mi serve? Andiamo nell'assetto Della borsa Speculazione sì Speculazione no Assolutamente sì Certo Quindi deregulation Borsistica Io voglio in sostanza L'assoluta libertà Senza vincoli Quello che cacchio mi pare Senza vincoli geografici E senza vincoli legali Quindi io posso Cercare in tutto il pianeta Ogni occasione Di speculazione finanziaria Per trasformare il denaro In una quantità Maggiore di denaro Senza il minimo in top Mi serve un'ipartesi fiscale Abbiamo visto Ma mi serve soprattutto La libertà di scorazzare Quindi io voglio La deregulation Valutaria Quindi entrare e uscire Come mi pare Deregulation vuol dire Niente regole Niente vincoli valutari Niente vincoli valutari Uscire come vivare Il nome della libertà La libertà di circolazione Che bella parola Libertà Libertà per i bellofili Libertà No, i bellofili no Allora com'è La libertà C'è stato detto Tutto no Vabbè Comunque Libertà di rapinare Neanche No Di bruffare nemmeno Non di rapinare Voglio dire Nella tattispecie Prevista dalla legge Esattamente Quindi non la chiamiamo più Benissimo Non la chiamiamo più rapina E gli diamo un altro nome Abbiamo visto prima Che parliamo in realtà Di criminalità finanziaria Criminalità finanziaria Allora quindi Cosa mi serve La deregulation valutaria Quindi nessun vincolo valutario Libertà di entrare Uscita dalla nazione Qualunque essa sia Senza il minimo problema Anzi se la nazione Non ci sono ancora meglio Anche meglio Sì in effetti Sarebbe meglio Che avesse la stessa Consistenza ontologica Dei meridiani E dei paralleli Certo Nessuno ha mai inciampato Su un meridiano Con un parallelo Con un parallelo Giusto? Questo sarebbe l'ideale Però Stati ci sono Ma tra poco Ci leviamo il difetto E gli stati li eliminiamo Quindi Restiamo quindi al discorso Formalmente Li lasciamo Ti lasciamo Quindi Li esautoriamo Quindi Li togliamo potere Esattamente Sovranità Li chiamano Esattamente Quindi allora In borsa Assoluta libertà di speculare Scusate Io I miei capitali Li voglio moltiplicare in borsa No? Quindi mi serve L'assoluta libertà Di circolazione dei capitali Quindi non voglio regole Non voglio controlli Borsistici Non voglio controlli valutari Andiamo al cambio Che cambio voglio? Vabbè Il più alto possibile Voglio che Quando i miei capitali Mi riporto all'estero Per qualunque motivo Li valorizzo al massimo Al momento del cambio Quindi voglio un cambio forte Non voglio un cambio debole A proposito Nessuno credo Abbiamo mai sentito Parlare di cambio vero La parola vero Non la vedo utilizzare mai Chissà perché La gente fa il tifo Per il cambio forte Si preoccupa Con il cambio debole Ma non ha la minima idea Che cosa possa essere Un cambio vero Eppure ha sentito dire Che l'euro È sovracuotato Per i pigs Non è in linea Con i fondamentali Dei pigs Chissà cosa vorrà dire Un'espressione del genere Di solito Uno poi si distrae Non sta più Troppo a controllare Tra poco ne parliamo Sì lei Con la semplicità Con la quale Ci sta illustrando Le altre cose Ma perché State scrivendo Cos'è il neoliberalismo Lei con questi 5 punti Beh State scrivendo Il pensiero unico Perché poi Il pensiero unico Non fa nient'altro Che spiegare Che questi 5 obiettivi Rispondono al supremo Interesse della nazione Perché funziona così A me servono Queste 5 cose Giusto? Benissimo Allora Se immaginiamo Di scegliere La deregulation borsistica E la deregulation valutaria Come facciamo a impedire Il crollo di borsa E il crollo del cambio? Dobbiamo bloccare l'inflazione E non possiamo Tassare i ricchi Se noi tassiamo i capitali O abbiamo un'inflazione alta I capitali escono E se escono La speculazione Accredisce immediatamente Sia la borsa Che il cambio E abbiamo un crack sistemico Quindi L'errore consiste Nell'optare Per il regime Deregolamentato Ma una volta Che opti Per il regime Deregolamentato A quel punto Le scelte sono obbligate Se passa quello Passa tutto Se tu riesci A convincere la gente Che in nome della libertà Nel supremo interesse Alla nazione Bisogna optare Per un regime Deregolamentato Borsistico E valutario A quel punto Tu la speculazione Finanziaria La blocchi solo Facendo quello Che piace agli speculatori E cosa piace agli speculatori? Niente tassi ricchi Bassa inflazione Che poi La bassa inflazione Sia fatta A costo di recessione Pazienza La recessione Interessa Se il restante 99% Della popolazione Non interessa Chi ha 6 mila miliardi Immaginate avere 6 miliardi Di euro E sentirvi intervistare Mi scusi Cosa ne pensa lei Della crisi? Ma non vi scapperebbe Da ridere La crisi Un mondo così lontano Ma che è la crisi? Un mondo così lontano Dal mio Ma come fa? Immaginate uno Quegli esserini piccolini Così là Insignificanti Che stanno a lottare Per Come fa minimamente Uno che ha 6 miliardi A capire la differenza Tra guadagnare 10 mila euro al mese 5 mila 2 mila Milla euro al mese 100 euro al mese 4 cento Ma fa capire la differenza Se uno così Si trovasse con 10 mila euro al mese Si senterebbe rovinato Disperato Non ci starebbe Come si fa? Come faccio? Con i cavalli? Come faccio con i cavalli? Con gli elicotteri? Tutto questo pensiero unico E quindi questo Poi anche il neoliverismo Ormai l'abbiamo chiamato così Che cosa produce alla fine? Questo Produce la giustificazione Di quello che serve A questi ambienti qua A questi ambienti cosa serve? La deregulation Borsistica e valutaria Una volta optare Per la deregulation Borsistica e valutaria Bisogna per forza di cose Non tassare i ricchi E avere bassa inflazione E come si ottiene La bassa inflazione? Come si ottiene La bassa inflazione? Qui c'è un capolavoro Di follia collettiva Una delle tante pazzie Del pensiero unico Si dice normalmente Che per poter contenere La inflazione Bisogna contenere La domanda interna Adesso prima La dico in tempo reale Poi la dico con la moviola Beh Visto che Il prezzo dipende Dall'incontro Dalla domanda Dall'offerta Se aumenta la domanda Aumenta il prezzo Se inizia la domanda Inizia il prezzo Quindi Per far calare il prezzo Si deve fare calare la domanda Quindi come si contiene L'inflazione Calando la domanda L'ho detto in tempo reale Ho detto una stupidaggine E sembrava logica E sembrava logica Beh Dipende dalla velocità Dipende dalla velocità Dalla velocità Con cui si dicono le cose Scusate ma Quando aumenta la domanda Perché aumenta il prezzo? Momento di panico Scusate ma Se aumenta la domanda Di 100 E l'offerta aumenta di 100 Il prezzo che fa? Rimane uguale no? Il variato Allora c'è un sottinteso Quando aumenta la domanda Perché il prezzo aumenti Occorre che l'offerta Non aumenti di 100 Aumenterà di 80 Magari di 90 Ma non di 100 O di 0 E nessuno ce l'ha pensato Neanche lo studente d'economia Che magari puoi fare l'esame Puoi fare anche l'insegnante d'economia E non ce l'ha riflettuto Se avrete al punto che in sostanza A chi ha un sacco di soldi Gli serve la inflazione bassa Ma siccome gli serve anche La deregulation o boristica valutaria A questo punto L'inflazione diventa un punto cruciale Del sistema Guardate il pensiero unico Mi hanno detto Come risolvere il problema Della inflazione In un modo assolutamente idiota Che è quello che dicevo prima E cioè Succede questo Si dice Poiché quando la domanda sale Il prezzo sale Per fare calare l'inflazione Basta fare calare la domanda Semplice no? Se non c'era un sottinteso Nel ragionamento Quando la domanda sale di 100 Perché il prezzo possa salire Occorre che l'offerta Non aumenti di 100 Perché se l'offerta Aumenti di 100 Il prezzo rimane uguale E questo sottinteso Non ce l'ha pensato nessuno Giusto? Si Viene un sottinteso Male? Elementare? Una verità elementare? Che non viene considerata? Benissimo Allora E perché mai l'offerta Non dovrebbe aumentare di 100? Questa è un'altra bella domanda Perché non dovrebbe aumentare di 100? Che mai non dovrebbe aumentare di 100? Allora leggiamo sforzi Degni di ben altra causa Del tipo Perché c'è uno scatto temporale Tra il momento in cui L'offerta si adegua alla domanda Eh già Perché ci sono le strozzature del mercato Aspettate Quali sono le strozzature del mercato? C'abbiamo un embargo? Sono arrivati i marziani? C'è una guerra in atto? No C'è la piena occupazione? Per carità Non diciamo questa assurità Non ci sono capitali disponibili? Ma come? In Italia 2.000 miliardi di capitali inutilizzati 2.000 miliardi di capitali inutilizzati 3 milioni almeno Di disoccupati sicuri 3 milioni E non abbiamo Fattori della produzione da occupare E allora come mai Quando aumenta la domanda L'offerta non aumenta altrettanto? C'è un perché? Sembrerebbe di no Allora quindi stiamo parlando di pazzie Stiamo dicendo che cosa? Nulla Quindi tutta la cosa è inventata Stiamo dicendo quindi Che l'inflazione È dovuta al fatto Che quando aumenta la domanda L'offerta non aumenta Ma se l'offerta aumenta Non c'è inflazione E allora come fa a esserci l'inflazione allo stesso? Come fa a esserci l'inflazione allo stesso? Ma non solo Come fa a esserci la stagflation? La stagflation È la dimostrazione palmare Di che spazzità sto dicendo io Stagflation consiste nella inflazione In costante di stagnazione e recessione Ma scusate Ma quando la domanda cala Come fanno i prezzi a salire? Come fanno i prezzi a salire Quando la domanda cala Se non apposta E come avviene? Apposta E come avviene? È semplicissimo Immaginiamo che io stia vendendo dei salvagenti E ci stanno dieci persone che stanno affogando Io ho dieci salvagenti La prima possibilità è che offro In vendita a questi salvagenti Al miglior offrente Giusto? Ma c'è un modo ancora più stronzo Ed è quello di fare Signori guardate Ho dieci salvagenti Ne buco cinque Metto all'asta i cinque restanti Distruggo? Sì Se io metto all'asta i cinque restanti Li vendo Allo stesso prezzo dei dieci Ho un prezzo superiore Un prezzo superiore certamente Quindi mi conviene distruggere i cinque? Mi conviene distruggere Stare male tutti Per stare un po' meglio ancora di più E prendo la scusa dell'inflazione? No Sto dicendo la verità Perché in effetti È vero allora che quando vende la domanda di cento L'offerta non aumenta di cento Ma sai cosa mi verrebbe da pensare? Questo è il pensiero distorto Non ci faccia caso ma glielo dico lo stesso Sembra quasi che questo pensiero unico Non sia un'invenzione umana Sembra una roba disumana Sembra proprio Mi sembra proprio una roba disumana Sembra proprio Quindi alla fine diceva Però è vero o no che sto dicendo una pazzia dopo l'altra Una follia dopo l'altra Questo è il pensiero unico, è assurdo Tutto è falso queste cose Lei sta riuscendo in maniera molto semplice Ad arrivare a quel nocciolo a cui non si arriva mai Esatto Quindi è come la cipolla no? Noi stiamo sfogliando un po' questa cipolla Per arrivare a capire che alla fine poi c'è un solo concetto Quale può essere questo concetto? Quello che conviene ai super ricchi L'economia non è nient'altro che la falsa coscienza dei super ricchi Non è nient'altro che l'immaginario Che serve da involucro ideologico Che ricopre adeguatamente l'interesse fazioso dei super ricchi Quindi vuol dire che io ho costruito È un bla bla Io ho costruito tutta questa falsa conoscenza Per giustificare teoricamente Cioè apparentemente razionalmente Con una pseudoscienza Il fatto che io voglio essere ricco E tu devi essere povero E non devi rompere le scatole E non devi rompere le scatole Come disse Churchill una volta Io per essere ricco devo avere un metro di misura del povero Altrimenti come faccio a sapere che sono ricco? Infatti E anche quello è vero Ma soprattutto c'è una bella frase di Churchill Dicevo poco fa Che suona così La questione fondamentale È che la gente per bene Vuole vivere in pace a casa propria La gente per bene Vuole vivere in pace a casa propria Sarebbe interessante sapere chi considerava Churchill Ma credo che possa solo gelare la schiena Con una frase del genere Perché questa frase significa che poi Il lavoro sporco Tocca agli sgherri del potere Perché vuol dire che si uccide per molto poco Figuratevi per una roba di questa importanza Ma una cosa così importante È assolutamente da difendere Quindi bisogna controllare il pensiero Controllare i politici Controllare i media Tutto bisogna controllare E soprattutto al contadino Non far sapere quanto è buono il formaggio E controllare le risorse Controllare tutto Esattamente E non ti puoi neanche permettere Una ricchezza diffusa Quindi lei si rende conto Iopolo che sta dicendo Che questo mondo gira in questo modo Perché ci sono alcune persone Che hanno deciso questo Non è che l'hanno deciso Non ci bisogna neanche di decidere Adesso lasciamo stare se l'hanno deciso Ti conviene così Ti conviene così E hanno egemonia Beh è una decisione Beh è deciso Magari non lo sanno neanche Magari lo intendo in modo formale Posso anche aver deciso nella mia testa Questa visione del mondo Diciamo che hanno Questa visione del mondo Facciamo un esempio Scusi Questa visione del mondo E questa visione del mondo Io la impongo a tutti Sì Sì Diciamo assolutamente sì Facciamo l'esempio dei derivati Speculativi sui cereali Sì Allora a un certo punto Immaginiamo di poterci fare Dei soldi Speculando sui cereali Noi facciamo dei derivati Speculativi sui cereali E come effetto collaterale Di queste armi Che sono quelle mille robe Che faccio Esattamente Quelle mille assicurazioni Sul prezzo futuro del grano Noi scommettiamo Lei pensi questo Pensi che Ad esempio Ogni giorno Passano di mano Migliaia Di volte In più Rispetto al petrolio effettivo Cioè Rispetto Per ogni barile di petrolio Per ogni barile fisico Di petrolio Passano di mano Migliaia di barili virtuali Nella forma Di derivati speculativi Sul petrolio Sono vendite Mimate di petrolio Tutto con l'uso Del congiuntivo Del conduzionale Se tu avessi soldi Per combattere Mimate Mimate sì Se tu avessi soldi Per combattere il petrolio E io ci avessi il petrolio Da venderti Tra tre mesi A quanto me lo metteresti Tutto quello Se basterebbe mettere la regola Vedere soldi Dare a cammello E tutto finirebbe Se lei Se avessi 100 case da riente Lei che è persona di petrolio Esattamente E noi facciamo dei contratti Facciamo dei contratti di questo Facciamo dei derivati speculativi Che sono questi tipi di contratti Qual è l'effetto collaterale? Che sale il prezzo del petrolio Quindi significa che Mentre noi scommettiamo Sul petrolio E ci facciamo i soldi Con i derivati speculativi Sul petrolio E li usiamo addirittura Come moneta Allo scoperto Contemporaneamente Disgraziatamente Sale il prezzo del petrolio E quindi Il disgraziato come noi Va a pagare un prezzo superiore Ecco E quali sono le conseguenze Sulla società? Quali sono le conseguenze Di fare questo Per esempio Sui cereali Che muoiono Milioni di persone Perché non si possono Comprare i cereali Chi se ne frega? E chi se ne frega? Ma cosa vuoi che gliene frega? Quando uno è uno speculatore La rendita Non è come il profitto Il profitto È una cosa diversa Il borghese Il borghese Sfrutta il lavoratore Per suo interesse Come il lavoratore Cerca di Avere più soldi possibili Dal padrone Ma per dire Il borghese È anche quello Che poi magari La domenica Si porta la famiglia E di nascosto Si va a vedere Il palazzo che ha costruito Per dire Il ponte che ha fatto Perché? Perché è contento È un uomo faber Ci ha costruito una cosa Ci ha guadagnato Non l'ha fatto C'è l'orgoglio di quello che ha fatto C'è l'orgoglio dell'uomo faber C'è una creazione Esattamente C'è una creazione Ma lo speculatore Che cosa gli porta la famiglia a vedere? Che cosa? I derivati sul petrolio O sui cereali O i derivati sui subprime Madonna mia La crisi subprime Che cosa fu la crisi subprime? Pensate Che venne La crisi subprime fu Una roba Che naturalmente non venne spiegata Perché se non era Dinamite dello Stato Puro Vennero fatti I prestiti subprime Questi sei prestiti subprime Erano dei prestiti Fatti a persone Che avevano delle caratteristiche Di affidabilità ridotta E vennero fatti lo stesso L'effetto quale fu? Che la percentuale di insoluti Fu più alta del normale Credo del 2% Una roba del genere Quindi ci fu qualche insoluto Come si doveva risolvere Una cosa del genere? Niente Abbiamo del 2% di sofferenza Un problema relativo Il ricco dice Chi la scarico? Invece cosa venne fatta? Vennero cartolarizzati Cioè vennero messi tutti insieme Divisi E cartolarizzati Ma non fu fatto di peggio Venne fatta Una cartolarizzati Vuol dire trasformati? Trasformati in titoli Che vennero piazzati Con i broker Andavano piazzando questi titoli Quindi ognuno prendeva Una quota percentuale Di tutti i subprime Ma cosa è accaduto? Intanto che venne fatta Più volte questa cartolarizzazione Quindi in realtà C'erano più titoli Rispetto ai mutui Quindi E questo già è da galera Ma tu mi si fa Facci capire Questo Allora Io qua delle perte Vennero fatte Circa il triplo di titoli Rispetto a quanti erano i mutui Quindi già da galera Perché è una truffa questa qua Perché io almeno Se cartolarizzo L'importo della cartolarizzazione Deve essere esattamente uguale All'importo dei mutui Che sto cartolarizzando Se io faccio delle cartolarizzazioni All'ho scoperto Già sto facendo il magliaro All'Alberto Sorti Questa è lo scoperto E' una roba che torna sovente Esattamente Questa è la finanza creativa Finanza creativa E giocare allo scoperto Poi cosa fecero? Poi fecero i derivati speculativi Sui subprime Speculativi sui subprime? Sì Le scommesse Quelle scommesse mille volte Sulla quotazione futura dei subprime Quindi praticamente Venne data la colpa A quel 2% Che non pagò i mutui subprime Di tutto il disastro Che venne Per il crollo Dei derivati speculativi Sulla ipercartolarizzazione Allo scoperto dei subprime Che già solamente a sentire E' lungo come concetto Ma questo grazie anche Alla deregulation? E' certo Che è un'altra cosa Che io che passeggo Tutta quella ricchezza Voglio naturalmente Esattamente Cioè praticamente E noi chiediamo Ma chi doveva controllare? Perché non ci sono controlli? Le nostre sono domande stupide? No Vogliamo fare un esempio Più concreto? Ma sono domande Come abbaiare contro la luna Però mi pare Perché Allora la Banca d'Italia La Banca d'Italia E' una società Privata Che ha 300 mila quote Queste 300 mila quote È una banca di interesse pubblico Le nomine vengono decise Che non vuol dire pubblica Di interesse pubblico No, no, no È privata È privata Di interesse pubblico Esatto Le quote sono detenute No, perché su questo è equivoco Si gioca, no? Interesse pubblico È una banca di interesse pubblico Ma in realtà è una banca privata Questa banca privata è detenuta fondamentalmente dalle banche private Quindi le banche Unicredit Intesa Carisbo MPS Via discorrendo Sono praticamente titolari della Banca d'Italia Quindi i proprietari della Banca d'Italia Sono le banche che la Banca d'Italia dovrebbe controllare Controllate il controllore ma non si capisce bene No, si capisce bene No, si capisce nel senso che non è così che dovrebbe funzionare Io non posso controllare me stesso Quindi dovrebbe controllare il tesoro Ok, certo Non dovrebbe controllare la Banca d'Italia Quindi il controllo sul credito lo dovrebbe farlo l'ente pubblico Non la Banca d'Italia Mi pare che qualcuno si adoperò affinché Esatto Nell'81 Questo divorzio Nell'81 si dice che il divorzio tra la Banca d'Italia e il tesoro Ora, basterebbe ridare i poteri di controllo del credito al tesoro E a quel punto potremmo essere più sicuri O no? Però mi scusi Però mi scusi Ma se io posseguo tutta questa ricchezza E sono in grado di influenzare Anche chi fa le leggi E di influenzare pesantemente E di influenzare già da tanto tempo E influenzare anche l'opinione Di chi potrebbe magari capire E quindi lo riporto su altre strade Dall'altra parte abbasso la voce Di quelli che potrebbero dire Come dire Raccontare le cose come stanno Come ne facciamo? Come facciamo a uscirne? Vorrei che fosse chiara una cosa Alla luce di questa domanda Ma lo dice la verità Bersani? Quando dice noi non c'entriamo niente con l'MPS Mi spiego meglio No, aspetti Eh sì sì invece Perché? 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 Perché lo dimostro subito La MPS Il pacchetto di maggioranza dell'MPS È detenuto dalla fondazione MPS Sì La fondazione MPS È controllata dal comune E dalla provincia di Siena Il comune e la provincia di Siena Sono controllati Dal 45 Da quando sono stati cacciati I teleschi Controllati dal Diciamo dal partito comunista Oggi diciamo dal partito democratico Quindi il PD Per il giurista È il proprietario dell'MPS Certo Bersani dice noi non c'entriamo niente con l'MPS Beh ha ragione Il PD non c'entra niente con l'MPS Dimostrazione L'MPS si comporta come tutte le altre banche Non fa nulla di sociale Dimostrazione numero due Il gruppo dirigente dell'MPS Passa indifferentemente da Unicredit Invesa All'MPS E dall'MPS passa alle ferrovie Piuttosto che all'Italia Quindi questo che cosa vuol dire? Ma questo viene un po' in tutti i settori oggi Certo Ma questo vuol dire Da con l'automobilistico Sì Questo vuol dire che uno si porta i segreti da presso Com'è possibile Che un gruppo dirigente di una banca Si porta i segreti dalla banca Quando va dalla banca concorrente? C'è una sola spiegazione Non è concorrente Vuol dire che l'altra banca Fa parte del medesimo gruppo Vuol dire che al di là delle apparenze legali Al di là di quello che sembra pubblico E quello che sembra privato In realtà Stiamo parlando di articolazioni Tutte gestite da un ammelesimo gruppo di persone E però capiamoci Quando Bersani dice Noi non c'entriamo C'è un burattini significa Non lo so Perché Sì Questa notizia Letta sui giornali Significa che noi abbiamo le mani pulite No Perché le abbiamo pulite? E' peggio Stupendiamo Per un momento Vi accontendereste di milioni Mi gioppolo su questo Volevo dire la mia Ci tengo Allora Dire una mezza verità Equivale a dire una mezza bugia Io non posso dire Noi non c'entriamo niente E non spiegare però Come il sistema funziona Perché a questo punto Non sono in buona fede Io posso capire E' capire la buona fede di chi ascolta Significa che il potere è politico E' creare nella testa una doppia realtà Io sto dicendo questo Sono l'accordo Per chi capisce Capisce cosa intendo Però ci siamo di capire la verità qual è Anche La verità è Si chiama doppia realtà Sì ma la verità è che Sì ma la verità è che Il sistema politico Non conta nulla Certo Cioè il potere politico Non c'è politica Cioè i partiti C'è finanza Non contano nulla Comanda la finanza Comanda un'elite Credizia finanziaria E comanda sia ciò che è privato Sia ciò che è pubblico Fa quello che vuole Nessuno osa opporsi Dimostrazione ulteriore La patente appunti Quando abbiamo fatto la patente appunti Come l'avevano giustificata Avrebbe consentito di diminuire i premi assicurativi Sì ma è anche una maggiore educazione all'automobilista Ma il fine era diminuire gli incidenti E quindi diminuire il costo delle polizze Anche certo Le polizze sono aumentate Il governo consente che le polizze aumentino Mentre dovrebbero diminuire Alta dimostrazione Qual è l'interesse collettivo? Che gli interessi bancari siano alti, bassi, medi? Cioè l'interesse bancario Più è alto E meglio è? O più alto è peggio? Dipende da quale punto di vista Dal punto di vista del ricco Collettivo Collettivo che è bassa E invece è che è fissato È fissato dai banchieri Quindi dalla impresa leader dei banchieri Certo Mi dovrei dare 110 Cioè ho pensato Meglio darmi 120 Ma qua c'è di peggio Ioppolo Perché poi sono supportato dal legislatore E sono supportato dalla magistratura Che non interviene anche nei casi di usura Perché non basta che io fisso il tasso Ma addirittura poi sconfino Assolutamente vero Arrivo all'usura La magistratura non interviene Ma perché parlare di complotto? È automatico tutto questo Tutto questo avviene automaticamente È tutto il pensiero che funziona così Sì allora chiamiamolo Convergenza di interesse Guardi c'era una frase di Gebbels Una frase di Gebbels Ministro della propaganda nazista Che disse una frase Io quando l'avevo letta Non l'avevo neanche ben capita E più passano gli anni E più la capisco Diceva questo Datemi i mezzi di comunicazione di massa E convincerò ogni tedesco di qualsiasi cosa Certo È vero Certo Quanta gente sa della Torre 7? Vero Chi è a conoscenza della Torre 7? Nessuno Gustavo Le Bono diceva Voi ripetete continuamente un messaggio Non motivatelo Continuate a ripeterlo A ripetere a ripetere E la gente ci credeva La democrazia funziona così Mettono la sordina alla verità Esatto Ehi la cassa di risonanza alla bugia E il gioco è fatto La gente c'ha da fare Tutto il pensiero unico Tutto il neoliberalismo Tutto il basso È un Come dire È fumo Per Giustificare Che pochi Possiedono la ricchezza Esatto E gli altri devono contribuire Ad arricchirlo ulteriormente Non so E abbiamo visto fra l'altro A qualsiasi costo C'è altrui 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 La criminalità finanziaria La criminalità finanziaria Non è riconosciuta Tutta questa impalcatura Pensiero unico in economia Neoliberismo Rapporto con i politici Tutta un'impalcatura E tutto fumo Per giustificare il fatto Che io sono ricco E voglio continuare Ad essere sempre più ricco E mi servono quelle cinque cose Mi servono quelle cinque cose Ok Che le farò passare per libertà Naturalmente Perché l'uso del linguaggio In questo caso è fondamentale La manipolazione proprio del linguaggio linguistica E pur di ottenere tutto questo Non mi interessa Qual è il costo Che qualcun altro dovrà pagare Esattamente E questa è la sostanza Questa è la sostanza Il problema sono quelli che ci cascano C'è la maggioranza C'è la maggioranza Io mi sono sempre chiesto In tutta la mia vita Perché mai io dovesse spiegare queste cose Avesse spiegato le cose complicate L'avrei capito Ma sono facendo cose di una facilità esagerata Ma mi chiedo Ma com'è possibile che nessuno ci arrivi da solo Come mai non si sente queste cose in giro Perché non ci facciamo più domande Ma forse sono tanti che le pensano Ma la sordina fa sì che sembra che non le sappia nessuno Ma in realtà sono tanti che pensano Sono critici rispetto a queste cose Ma credo che queste cose si stiano anche diffondendo Il modo semplice con il quale ce l'ha spiegato oggi Veramente esemplare Però ormai queste notizie si stanno diffondendo Ecco, obiettivamente devo dire Che arrivare a capire che il tutto si fonda Su questi cinque pilastri È un gran passo avanti Di questo la ringrazio sinceramente Sono due questioni che mi piacerebbe toccare Se è possibile Veda lei Ed è Una la questione dello spread Tocchiamola E l'altra la faccenda dell'agenda Monti Bene Perché sono due capisaldi e pensiero unico Infatti l'abbiamo messo qua Allora In tutto questo Una volta che abbiamo capito questi cinque pilastri E questo pensiero unico Adesso possiamo Possiamo sulla base di questa conoscenza Che cosa dovremmo fare? Capire che cos'è realmente questo spread E che cos'è che sta agenda Monti di cui si parla Sì, sì, perfettamente Che mi pare sia un'altra cosa del genere Allora, lo spread è una cosa che se la gente sapesse cos'è Io penso che Probabilmente Scoppierebbe la violenza nelle strade Perché la bugia sullo spread è qualcosa di vergognoso Mi spiego meglio È semplicissimo Allora Tutto comincia con una banca centrale europea Che presta lo 0,75 Alle banche Tutti gli euro che le chiedono Per qualunque motivo le chiedono B.C.E. che presta lo 0,6 0,75 0,75 scusi Dopodiché con questo 0,75 Questa banca che lei diceva la B.C.E. La B.C.E. La Banca Centrale Europea A questo punto immaginiamo Unicredit prende allo 0,75 questo denaro E ci compra dei B.T.P. Benissimo Domanda A quanto dovrebbero essere i B.T.P.? Teoricamente allo 0,76 Sì Giusto? Sì Se la B.C.E. gli ripesta lo 0,75 Allo 0,76 Perché al 5%? Perché io ci posso speculare Ma io chi? Io banca Unicredit Sì Quindi gli italiani Si distangono per arricchire dei privati Ma se ho capito il concetto che mi ha detto prima Mi serve tutto questo meccanismo Ma perché ha capito quel concetto, no? Mi serve un meccanismo di parole Di robe là Di informazioni Che mi fa spaventare Perché insomma Devo parlare di debito pubblico Devo parlare di che l'Italia si deve salvare Tutto questo per giustificare Più naturalmente politici Che su questo ci fanno campagna elettorale O ci cadono governi O colpo di Stato Tutto questo per poter dire Per portarmi a casa Questo E infatti entriamo nel dettaglio Questa differenza tra l'acquisto Esatto Perché vediamo come funziona Ok Funziona in questa maniera Funziona in questa maniera Allora Perché dunque Un BTP viene venduto Mettiamo un BTP Normalmente Facciamo dei numeri semplificati Per poterci capire Per non dire i numeri effettivi Arrotondiamo Esatto Arrotondiamo Allora immaginiamo questo Immaginiamo che se vogliamo dare Noi il 2% di interesse A un BTP Un BTP di valore nominale 100 Lo dobbiamo vendere a 98 Ok E resta quel 2% Benissimo A questo punto c'è un problema E il problema è questo Come arrivare a 5 Semplicissimo E se l'Italia fallisce E se l'Italia fallisce C'è un rischio Se le agenzie internazionali di rating Dicono che l'Italia è a rischio fallimento Che fanno parte della mia orchestra Esatto Allora a questo punto Allora a questo punto uno potrebbe volersi assicurare Il 3D è a 300 punti Significa a 3% Vuol dire che costa il 3% Un certificato assicurativo Un CDS Un Credit Default Swap Su un BTP Quindi la banca Che compra un BTP Un buono del tesoro poliennale E si vuole assicurare Contro il fallimento dell'azienda Italia Teoricamente va a comprare Sui mercati finanziari Un CDS Che costa il 3% Quindi a questo punto Quanto è il prezzo del BTP? Per dare il 2% dovrebbe essere 98 Più 3 95 Peccato che nessuna banca Si compri il CDS Cioè nessuna banca ci crede Che fallisce l'Italia E quindi Quindi vuol dire Una banca Che io lascio intendere D'altro non spiego che cosa è lo spread Sì Intanto non spiego da che cosa è composto Che mi pare le abilità Sono due voci Però a chi anche dovesse capire queste cose In realtà io lo posso giustificare Dicendo ma io mi devo assicurare Comparando al 3% Che poi in realtà io non lo compro Dovrei andare a verificare nei bilanci Che non lo compro Esattamente Ma c'è di peggio Ma chi dovrebbe vigilare Su questa Siamo al punto di prima Quindi non è stupido Chi dovrebbe vigilare È d'accordo È complice È beh Oppure un tontolone inguaribile Quindi in realtà lo spread viene utilizzato Può essere utilizzato per due o tre ragioni Uno perché voglio speculare su quel paese Perché là c'è della ricchezza da portare via O io dico la c'è polpa È business Ok La c'è polpa L'Italia C'è polpa Dall'altra parte può essere anche utilizzata a fini politici Certo Per scalzare qualcuno che magari mi fa un po' di resistenza Per esempio E per mettere là a qualcuno che in realtà resistenza non merita Certo Perché mi assicura quelle cinque cose E noi abbiamo un Presidente della Repubblica Che di questo spread ne ha fatto lo spauracchio Per Eh ma poverino è ingenuo Lui non conosce l'economia L'ha fatto in buona fede Lui è il nostro papà Che ci vuole tanto bene Su questo Ioppolo mi permetta di risentire Sì Glielo permetto Non era molto fermo Glielo permetto Non è un ingenuo Perché quell'uomo è dentro queste cose Da ilo tempore Glielo permetto E non è dentro queste cose Si faceva i suoi viaggetti in America Non sta dicendo Già da Se ci lo dico lo affermo davanti alla videocamera Che si faceva i suoi viaggetti Che stiamo se ne è passata a tutte Allora vogliamo vedere un po' di dettagli Per capire meglio questa cosa Lo spread è questo È in realtà un altro meccanismo speculativo Come abbiamo potuto verificare Abbiamo visto anche Sì ma è un po' peggio da come sembra Ah sì? Sì Non ho finito Anche ora peggio di questo? Sì è molto peggio Oh madonna Allora intanto Perché si dice spread? Perché la differenza sul rendimento dei Bund tedeschi Io ho fatto l'ipotesi prima semplificata Che un Bund pagasse il 2% Se il Bund tedesco paga il 2% Vuol dire che Perché ha meno rischio di Perché la Germania ha meno rischio di fuoco Secondo le agenzie di Raging Secondo le agenzie di Raging Non invece no Allora quindi posto che mettiamo Che il Bund desse il 2% Attualmente dà molto di meno Però era per semplificare coi numeri Se il Bund dà il 2% Viene venduto al 98 Se lo spread è a 300 punti Vuol dire 3% Viene venduto al 95 il BTP italiano Perché costa 3 il CDS sui BTP Chiarissimo Però sappiamo anche che nessun acquirente di BTP Compre CDS Ma però c'è tanta gente che compra CDS Indipendente senza comprare BTP Come vai? Quindi uno compra CDS E chi è che li compra? Eh non so Forse mi ricordo Non ricordo un po' quello che vedeva l'altro del vicino Che se la rubavano E se la voleva assicurare Cavolo Eh Mica era sua la macchina Eh ma questo vicino Che sto vicino E' un derivato speculativo Che viene comprato indipendentemente dai BTP E in più Nessun acquirente di BTP si compra CDS Quindi basterebbe dire Scusa un attimo Tu Il BTP costa 98 No io lo voglio al 95 E allora ti compro un CDS Ah no non me lo compro CDS E allora? Tanto so che non serve Quindi è una balla Potrei anche comprarlo Ma non per quella motivazione Per fare una speculazione diversa E se noi fossimo una banca Che vuole speculare sui BTP Non ci converebbe anche speculare sui CDS Per fare salire lo spread? Beh certo Perché se sale lo spread Aumenta il guadagno Certo aumenta il guadagno Chi soffre è il popolo italiano Chi se ne frega il popolo italiano Quindi allora noi scommettiamo Facciamo una tempesta speculativa contro l'Italia Facciamo aumentare lo spread Facciamo stringere la cinghia Con le agenzie Prima parte con le agenzie Esatto Tutti d'accordo? Quindi facciamo stringere la cinghia agli italiani No? E tutto questo semplicemente per speculare sui CDS Facciamo un disastro pazzesco Un disastro politico Pazzesco Una statua Economico Una statua Disoccupante Ma chi più ne mette Stiamo speculando Stiamo speculando Criminali no? Io mi chiedo che stiamo aspettando Ma questo è il mio pensiero Allora ci siamo fino a qua? Sì Quindi speculare sui CDS Per poter guadagnare di più Quindi c'è un mangia mangia Quant'è questo mangia mangia? Dati 2009 Ma perché lei non vuole farmi dormire stasera? No perché uno Comunque lo dica Lo dica Deve anche capire di cosa stiamo parlando Le proporzioni ovviamente Le proporzioni Le dimensioni Stiamo parlando di una cosa allucinante Assurda Pazzesca Sì Ma è talmente pazzesca Che io credo che uno dovrebbe dire No ma quello è pazzo No ma che stai dicendo Ma quello non è possibile Eppure guarda E' tipico dei paranoici Dire le cose coordinate e coerenti No ma penso che questi dati Siano riferibili anche Ah se li può trovare chi vuole In certa facilità I dati Istat sono a disposizione tutti Allora I dati Istat del 2009 per esempio Quelli che mi ricordo meglio Allora Oneri finanziari 130 miliardi Interessi sui BTP 80 miliardi Spesa pubblica 500 miliardi Interessi sui BTP Sono compresi Compresi Allora Prima dello spread Stiamo parlando Prima dello spread Prima dello spread Allora Quindi ci abbiamo Praticamente Un PIL Che è fatto Di 1820 miliardi Togliamo 130 miliardi 30 miliardi Di oneri finanziari Cos'hanno gli oneri finanziari? Ah no Scusate Servizi finanziari Cos'hanno i servizi finanziari? I soldi che diamo alle banche Giusto? I bilancio sono scritti E perché Cossegno più? Vuol dire che più paghiamo le banche Più siamo ricchi? La pilata per il culo Proprio è colossale Nel PIL Vengono calcolati Gli interessi bancari Come servizi finanziari Cossegno più Mentre sono i soldi in meno Che noi perdiamo Perché diamo alle banche 130 miliardi Più che 80 miliardi Sono 210 miliardi E 210 miliardi Di soldi Perduti in interessi Con i fessi che lavorano Quindi i fessi che lavoriamo Ci facciamo un culo così Per lavorare E diamo 210 miliardi Su 1800 Al sistema bancario Per far cosa? Quanto è 15% 12% Ma ha senso tutto questo? Ma quale sistema economico Può reggere Un dissanguamento Da vampiro Di questa portata? Quindi come può finire questo? Non solo Ma ne hai sentito mai parlare? Sono un numero di dispersione Di tutti Si parla di tutto Di far stringere la cinghia Gli italiani Si parla di agenda monti Ma nessuno Nessuno parla Di contenere Gli interessi bancari Oppure Di contenere lo spread Perché sapete come si contiene lo spread? È semplicissimo Basta fare il collocamento alla giapponese Oppure come quello americano Il collocamento alla giapponese Consiste nel collocamento forzoso Presso le banche Che intendono operare In territorio giapponese Al tasso ridotto Noi potremmo benissimo Obbligare O la BCE A prestarci i soldi al tesoro Allo 0,75 Oppure Di prestare Obbligare Allo 0,76 Le banche private E il gioco è fatto E risparmieremo 70 miliardi l'anno 70 Non permetteremo agli speculatori Di A quelli che possiedono Ma La gallina Dalle bovatorie Non si tocca E quindi si fanno stringere La cinghia agli italiani Quindi Si tortura la gente Si fa un sacco di recessione Disoccupazione Per non toccare Questi interessi E soprattutto Non se ne parla Quindi la gente Non ha idea Di come stanno le cose No decisamente E si propone L'agenda Monti La vogliamo vedere Quest'agenda Monti Vediamola 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 L'agenda Monti E' una delle cose Più tragicomiche Che esistono in circolazione Tragicomiche Tragicomiche Perché è tragica Nella sua comicità Intanto Naturalmente O è comica Nella sua tragicità Esatto Se scegliamo un po' Quale delle due formule L'agenda Monti Ragiona così Noi dobbiamo diminuire Lo spread Per diminuire Lo spread Dobbiamo tranquillizzare I mercati Non semplicemente Evitare la speculazione No Quella non si tocca Dobbiamo tranquillizzare I mercati Come li tranquillizziamo I mercati Dandogli quelle cinque cose Quindi tagliendo soldi Poveri E dandole ricchi Questa è la base Allora cosa diciamo Dobbiamo tranquillizzare I mercati Comunque bisogna tagliare Tutto ma non gli interessi Esattamente Tutto ma non gli interessi Tutto ma non gli interessi Non si deve parlare L'agenda Monti Prevede tutto Tra l'italio e gli interessi Esattamente Non è che dobbiamo obbligare A chi compra un BTP A comprare un CTS Se non ha niente sconto No Questo non si fa Non si fa Quindi la gallina L'uomo d'oro Non si tocca Gli italiani si devono torturare E spremere benino E disintegrare E rovinare Nell'interesse di pochissimi E tutti zitti Sull'argomento Gli italiani a livello privato Ma anche a livello pubblico Perché noi rischiamo Di svendere tutto Certamente A doppio livello Ok Allora Siamo arrivati a questo punto Cosa succede A questo punto Con gli interessi bancari Non si toccano Cosa succede allora Qual è l'alternativa Le tasse Ma se noi tassiamo gli italiani Quali italiani dobbiamo tassare Per non fare recessione Naturalmente non i ricchi Per non fare recessione I ricchi Ma se tassiamo i poveri Facciamo recessione Certo Perché i poveri Spendono questo Tutto il loro reddito Quindi tutto quello Che togliamo di tasse Alle fasce di reddito Medio-basse Sono praticamente Consumi in meno Se noi tagliamo La spesa pubblica Per pagare le banche Sono consumi pubblici In meno Quindi le imprese Investiranno di meno Occuperanno meno persone Produrranno meno ricchezze E noi caliamo nella recessione È chiaro L'alternativa qual è L'alternativa è fregassene Oppure tassare i ricchi Ma soltanto i ricchi Il paradosso è che si uscirebbe Dalla crisi solo Tassando i ricchi O meglio Tassando solo i ricchi Cosa che mai Non se ne parla neanche questa Non si farà Non se ne parla Non si farà Ne parliamo tra poco Con queste leggi elettorali E con tutto il resto Mi pare che ci siano Ben poche Certo Attualmente Questi sono tutti Argomenti tabù In campagna elettorale Di questa cosa Non ne parla nessuno Quindi Non c'è possibilità Di salvezza Attraverso il voto Torniamo Quindi a noi Allora stavamo dicendo Non c'è possibilità Di salvezza attraverso il voto E no Perché nessuno propone Quello che ci sarebbe da fare Pensiero unico in economia Esattamente Il pensiero unico in economia È condiviso Tutti sono sicuri Che questa anemia Si combatte Con i salvezzi Essendo tutti convinti Che gli incendi Si spengono con la benzina Che l'anemia Si combatte con i salvezzi Cosa ci vuole? Benzina e salvezzi Chiaro? Quindi la regola qual è? Togliere i soldi ai poveri E darle ai ricchi Quindi Detassare Mantere la telecomissione Borsistica valutaria Quindi L'agenda monte È la riproposizione Del pensiero unico Esattamente E quindi l'idea qual è? Praticamente Tassare Confusa Con nebbie Di diverso colore Di diversa forma Ma è sempre il pensiero unico Ed è il pensiero neoliberista Che abbiamo capito che cos'è C'è una gaffa grandiosa La gaffa grandiosa E non è stata colta Nella sua vera essenza E' quella famosa Quella famosa La gribuccia Che scese Alla fornero Quando doveva tassare i pensionati La chiamata friniero Tanto quello Esattamente Non è un po' Ma scusate una cosa Alla luce di quello Che abbiamo detto Ma che cosa significa Togliere La carne di dosso Togliere 100 euro A un pensionato Ma come ti permetti In un contesto di questo tipo Di togliere 100 euro A un pensionato Che sono una goccia Nell'oceano Uno E sono per giunto Recessivi Quando quello Dovesti fare Togliere i soldi ricchi Ma Monti Si gira E guarda stupito La fornero E nella sua testa c'è Ma che cosa piace Tanto mica li paghiamo noi Sti soldi Non serve a un cacchio Che ti frega Va bene lo stesso Tanto la gente Non ne capisce niente E gli possiamo fare La pipì in testa Senza il minimo problema Questo significa Perché i sacrifici Di Monti Sono recessivi Ora io prima ho detto Che se tu tassi di 100 Se fai tagli per 100 Per impostare 100 In realtà per impostare 50 Perché Ok Ecco i veri numeri purtroppo Non sono questi Aspetta un attimo Ma è importante questo I veri numeri I veri numeri Sono che esiste anche Il cosiddetto Moltiplicatore Che ne sia Che ne sia Cioè vuol dire Che in sostanza Ogni volta che tu fai calare La domanda di 100 Crede gli effetti Moltiplicatori recessivi Che tra una storia e l'altra Sono almeno 5 volte Che vanno incidere Su quali voci esattamente Allora In maniera semplice Allora io una volta Io ci provo Ci provo Però non garantisco nulla Perché io ricordo Che rinunziai a spiegare Questa cosa Quando insegnavo Dopo che una volta Ci messi un mese A spiegare questa cosa Ma non era difficoltà Ci tenevo Ma non era difficoltà È quello che c'è in testa già A creare questi ostati Sì ma alla fine di questa mese Solo il 50% degli studenti Aveva capito i moltiplicatori Grandissimo risultato Il 50% Ho detto Non parla bene Troppa fatica Comunque ci provo Vediamo che chissà mai Stavo Bene Invece a distanza di 30 anni Magari ci riesco molto meglio Allora La questione è questa qui Se io Calo la domanda di 100 Le imprese produrranno Meno 100 Quindi il PIL Calerà di 100 Certo Se il PIL Cala di 100 Aspetti Ripetiamo No 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 Per me è chiaro Vado avanti Allora Quindi se io Calo la domanda di 100 100 La offerta Calerà di 100 100 cala la produzione E quindi caleranno La produzione di 100 Caleranno rendite Profitti e salari Per 100 Quindi il PIL Cala di 100 Se il PIL Cala di 100 In conseguenza di questo calo Calerà ulteriormente La domanda Sì Di quanto Della quota Che viene consumata Anziché risparmiata Sappiamo che risparmi Circa il 20% Del PIL E i consumi L'80% Quindi calerà Dell'80% Di 100 Ma se calerà L'80% Di 100 L'offerta calerà A questo punto Nel secondo periodo Dell'80% Di 100 Poi calerà Dell'80% C'è un abitamento C'è un abitamento Poi dell'80% Dell'80% Quindi 80% 64% 56% 48% Perché ogni volta L'80% Esattamente La somma di N termini Dove ogni termine E' uguale al precedente Meno una frazione Ci dice L'aritmetica Della terza media Monti Terza media L'aritmetica Della terza media Ci dice Che la somma di N termini Di una progressione geometrica Dove ogni membro E' uguale al precedente Dedotta Una percentuale E' data Dal primo termine Moltiplicato L'investo Alla percentuale Mi spiego meglio 80% Cosa vuol dire 4 quinti Cioè La parte che si toglie E' un quinto L'inverso di un quinto E' cinque Allora Cento moltiplicato E' cinque Fa cinque cento Chiaro? Sì Allora il problema diventa Keynes scopre il moltiplicatore Nel trentadue E spiega Perché la crisi di Wall Street Andava Andava combattuta Con il New Deal Cioè Bisogna Bisogna impedire alla domanda Di fare questo perversi Effetti moltiplicatori Keynes Sembra morto in vano Perché invece Il signor Monti Insegna da cinquant'anni Sconoscendo il moltiplicatore La domanda aggregata Perché Cosa succede allora? Quindi non è solamente Un pessimo Presidente del Consiglio Ma è anche un pessimo insegnante? Assolutamente sì Ma io non sto dando giudizio Sto tirando le conclusioni No lo dico io Assolutamente Assolutamente Ci sono delle presentazioni da fare Che faremo tra poco Per capire meglio il meccanismo Quale è quindi La parte che viene sottratta? Lo vediamo subito Quindi 80% 20% sono i risparmi 5% sono gli investimenti produttivi Quindi in realtà Stiamo parlando del 15% Viene sottratto Giusto? L'inverso del 15% Fa circa 6 volte 6 periodico Quindi vuol dire Che ogni sacrificio pari a 100 Composta una recessione di 660 Ogni sacrificio pari a 100 Ogni soldo che togliamo di bocca Un pensionato Prova un danno 6,6 volte periodico superiore E' pazzesco Togliamo un miliardo ai pensionati Facciamo una recessione Di 6,7 miliardi Questo è scientifico Mi scusi Ecco Però c'è un particolare ancora da precisare Per capire meglio In realtà dobbiamo pensare Quindi vuol dire che il sacrificio Del pensionato E' dannoso E' dannoso Gli unici che non devono fare sacrifici Sono i poveri Se i sacrifici li fanno i medi E' dannoso L'unico caso in cui non è dannoso Un sacrificio Se lo fanno gli straricchi E cosa viene riportata la cosa? I sacrifici li devono fare tutti Ma se come tutti Esclusivamente gli straricchi Questo va a cambiare completamente il paradigma Eh ma si parlava di pensiero unico Ripeto la frase Io sono giunto alla conclusione Che tutto ciò che di economia Mi è stato insegnato all'università L'espetta e la materia Musvet Esattamente Si è rivelato Totalmente falso Totalmente No parzialmente Tutte balle Tutte balle E c'è una precisazione ancora da fare E riguarda il problema del sistema Dei cambi Perché noi ricordiamoci Che questo funziona Questo ragionamento Comporta la chiusura delle frontiere valutari Se noi non abbiamo un sistema di controllo Se noi non mettiamo un sistema di controllo Dei cambi Noi abbiamo le flusse dei capitali Noi dobbiamo impedire Il crollo di borsa E il crollo del cambio E il crack sistemico dobbiamo impedire Giusto? Ma se noi non Chiudiamo il cambio Cioè se noi non Recuperiamo il controllo centralizzato del cambio Se noi non mettiamo In sostanza dei vincoli valutari I capitali fuggono Giusto? Sì Quindi Se noi non mettiamo Il calmero all'ingrosso e all'antitrust Per controllare l'inflazione Quindi in questo momento Stanno scappando anche i capitali dall'Italia? Beh Non scappano Se noi facciamo felici i ricchi Se noi facciamo quelle cinque cose Non lo diciamo attualmente Stanno scappando i capitali Ma mica tanto Un pochino Qualcuno dice di sì Sì ma poca roba Poca roba A parte che poi vedremo Non in c'è tempo oggi Che se anche se scappa Non succede niente Perché ne possiamo creare Quanti ne vogliamo Ma comunque L'abbiamo Ma bisogna creare altre condizioni Sì però È complicato Per piacere Non ne parliamo adesso Va bene Parliamo semplicemente Di questo moltiplicatore Quindi il problema qual è? Che se tu non chiudi Le frontiere valutarie E non metti dei controlli Sulla borsa Non puoi fare queste cose Perché appena tu tocchi Una di quelle cinque questioni I capitali fuggono E crolla la borsa E cambia Chiaro? In più l'inflazione Si era parlato prima Dalla stagfession Cosa voleva dire La stagfession? Che l'inflazione è Volontaria Cioè c'è un uso Cioè i multinazionali Gestendo i listini all'ingrosso Decidono il tasso di inflazione Quindi si può fare anche Un uso terroristico Dell'inflazione Basta aumentare i listini In controtendenza In controtendenza Alla domanda E io provo Un'inflazione Che comporta Speculazione In borsa Speculazione sul cambio Crack sistemico Quindi noi possiamo Sottrarci a questo Solo Bloccando La speculazione Finanziare e valutaria Bloccando Praticamente Abbandonando il sistema Della deregulation Optando per un sistema Vincolistico Se non si opta per un sistema Vincolistico Siamo ostaggio Della finanza Iopolo Ma a questo punto Vabbè Mi stacca L'agenda Monti L'agenda Monti È recessiva No, l'abbiamo sviscerata Ormai abbiamo capito L'agenda Monti Deve portare avanti Questo pensiero Di 5 punti Quindi 5 punti Perfetto La domanda è questa Ma dopo aver ascoltato Questa sua Tutto ciò che lei ci ha detto In maniera anche abbastanza semplice Perché poi Ci ha detto argomenti Che ci li fanno apparire complessi Ma in realtà Poi sono veramente Solamente banali Nella loro semplicità Che cosa possiamo fare? Allora La domanda è Che cosa possiamo fare Da un punto di vista pratico Allora Che cosa possiamo fare Non intellettuale La domanda si articola in due parti La prima parte della domanda È Che cosa possiamo fare Senza sapere E la seconda domanda È Cosa possiamo fare Sapendo Allora C'è un vecchio detto Che dice Che per prendere un passero Basta mettergli Due cucchiate di sale Sulla coda E in effetti è vero Perché se un passero Sta fermo Mentre uno gli mette La prima cucchiata Poi la seconda cucchiata Tantuale Quello prende E se lo mette in tasca Giusto? Perché nessun passero È così fesso Da farsi mettere due cucchiate Sulla coda Per cui Il gioco è questo Allora Il problema è Se queste cose non si sanno È quasi impossibile uscirne Se queste cose si sanno È quasi impossibile Non uscirne Quindi diffondere le informazioni E basterebbe Quello Noi continuiamo a dilutare Basta dire che il re è nudo Il re è nudo Difondere le informazioni Le difficoltà sono bestiali E derivano Sull'attaccamento affettivo Della popolazione Ai vecchi parametri Cioè il bisogno Che ha la gente Non si ha paura di cambiare Si ha paura di cambiare Il bisogno Che è una cosa Che te la dica Uno scienziato accreditato Cioè Non lo pensano Esatto Cioè Non Se la scienza ufficiale Dice Quelle cinque cose La gente crede In quelle cinque cose Anche se a nessuno Gli quadrano bene Basterebbero 15 serate Di porta a porta Fatte bene Oppure basterebbe Una sola cosa Quella che le sto per dire adesso Basterebbe Lasciar perdere Completamente Ogni ragionamento Che abbiamo noi fatto E prendere Semplicemente Carte e penna E trascrivere i dati E si vedrebbe Che negli ultimi Venticinque anni Venticinque anni Di ricette liberiste Del pensiero unico L'1% scarso della popolazione Ha triplicato la sua ricchezza Il 99% restante La dimezzata E all'interno di questo 99% Il 50% più povero La ridotta di due terzi C'è bisogno di dire altro? Sì C'è bisogno di dire Che io la ringrazio tantissimo Di questa Di questa chiacchierata La ringrazio veramente tanto Lei è stato illuminante Su tantissimi Su tantissimi aspetti Io mi auguro Che ci saranno altre occasioni Magari per approfondire qualcosa Per aprire nuovi Nuovi fronti Di Nuovi fronti di analisi Se non mi trovano 20 tonnellate Di cocaina in casa 77 cadaveri Tagliati a pezzi Nelle valigie Oppure se non mi scoprono Pedofilo Pedofilo Oppure non muoio di cancro Con una padella Di plutonio Sotto il culo Se non muoio Semplicemente A ristorante Strozzandomi Mangiando Un'insalata di polivo Sì Bene Questo filmato È già una maggiore garanzia Anche questa È una garanzia Magari È un'assicurazione Anche questa Io la ringrazio ancora Sono certo Che ci ritroveremo E Buona sovranità E in bocca Comunque Comunque Una 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 Non Un'assicurazione Un'assicurazione Grazie a tutti